bene allora buon pomeriggio a tutti siamo partiti con la registrazione quindi io vi do il benvenuto a questo seminario che vedete è organizzato dal mio collegio che è il collegio geometri e geometri laureati di padova io mi presento per chi non mi conosce sono il geometra gianni rossi e vedete sono proprio il responsabile per il mio collegio dei corsi online che organizziamo appunto come collegio di padova e oggi poi assieme a me ci sono gli amici colleghi corrado brindani del collegio di raggio miglia corrado se vuoi salutare e buon pomeriggio e poi c'è il geometra sergio ivaldi del collegio alessandria sergio e buon pomeriggio a tutti i colleghi ecco diciamo che io sergio corrado normalmente teniamo corsi appunto su temi di topografia di catasto e di riconfinazioni e oggi loro in realtà mi daranno una mano perché siete iscritti a questo seminario in più di 3000 geometri da tutta italia per cui normalmente quando i numeri sono così alti ci sono anche molte domande per cui loro otterranno monitorate le domande che farete nel pannello del webinar e se del caso mi interromperanno e affronteremo le vostre domande e cercando di rispondere dicevo ecco questo in realtà non è un seminario solo sarebbero due perché il primo riguarda la cartografia catastale delle serie alle entrate e in particolare il tema è poi come sovrapporre le mappe di impianto e anche i rilievi appunto sopra la cartografia delle serie entrate il secondo riguarda invece la gestione grafica dei rilievi topografici catastali li abbiamo conglobati in un unico webinar così tanto per impegnare un solo pomeriggio e quindi per avere un unico pomeriggio e poi un'unica registrazione anche per chi lo vuole seguire registrato naturalmente io adesso prima di entrare nel merito dei due temi ho sempre questo ingrato compito di darvi delle istruzioni su come seguire il corso e ottenere i crediti formativi questa è una parte noiosa lo so molti me lo dicono specialmente quelli che entrano da youtube però purtroppo dovete capire che noi siamo un collegio di geometri diamo crediti formativi a norma del regolamento del corso nazionale per cui dobbiamo un po' anche spiegare come fare per ottenere regolarmente i crediti formativi poi alla fine invece vi dirò anche la nostra offerta formativa di corsi geometri eccetera eccetera ecco allora entriamo un po' ma adesso qui cerco di andar via stra veloce perché non voglio rubare tempo ai temi tecnici se dovete intervenire in una sessione ma lo sapete già fare perché state scrivendo tutti ampiamente sapete che nel pannello domande del webinar avete questa cella nella quale volete inserire le vostre domande ripeto sia io ma più che altro sergio corrado andranno a legge cioè le teranno monitorate le leggeranno e se del caso vi risponderemo in diretta e per quelli che sono entrati da youtube perché appunto essendo essendoci oltre 3.000 vercipanti chiaramente la nostra piattaforma non regge quel numero ne regge molto meno per cui abbiamo anche istituito la diretta youtube e quindi molti di voi sono entrati o stanno entrando in questo momento qui da youtube sapete che anche lì c'è la chat per cui anche lì se volete scrivete nella chat youtube e anche quella la terremo monitorata poi qui ecco ci sarebbe anche la possibilità di intervenire in voce ma all'assalto perché oggi sicuramente non c'era il tempo ci sarebbe mentre invece nei corsi che facciamo veri e propri qui vedete la piattaforma del webinar questa manina alzata voi non può cliccarla noi ci rendiamo conto che uno ha lasciato la manina e possiamo dargli e aprirgli il microfono e farlo parlare anche in voce ripeto oggi non ci sarà questa possibilità penso a meno che alla fine non ci sia il tempo per farlo ecco qui è importante se siete capitati oggi alle tre qualche minuto fa sul sito corsi geometri lì c'era già la possibilità di entrare al webinar o di entrare su youtube se è successo questo ma voi in realtà non vi siete non vi eravate ancora iscritti al seminario per avere il credito dovete iscrivervi quindi lo potete fare anche dopo stasera domani quando volete ma dovete andare sul sito corsi geometri.it dovete cliccare sia sull'uno che sull'altro se vi interessano tutti e due i seminari poi nella pagina interna trovate questo bottone iscrivete al seminario gratuito per cui cliccando vi iscrivete e da lì in poi potete poi seguire il tutto e avere i crediti formativi ecco la slide più importante poi dopo ho quasi finito è questa cosa dovete fare dopo questa diretta perché uno dice adesso io ho anche tanti che pensano che una volta vista la diretta sia a posto arrivino i crediti senza far più niente ecco non è così dovete andare sul sito corsi geometri.it se non siete registrati registrate non lo sarete quasi tutti dovete fare il login quando fate il login in realtà dovreste già entrare nella pagina che si chiama i miei corsi se questo non succede dovete attivare il menu profilo e poi i miei corsi che allora la pagina si apre per forza dicevo ecco entrate nella vostra pagina i miei corsi troverete chiaramente se vi siete iscritti i due seminari di oggi quindi 3 40 3 39 cliccate su uno dei due prima uno dopo l'altro e vi appare diciamo la pagina di quel seminario questa qui e qui vedete che nella tabellina trovate questi bottoni qua trovate anche una sessione 0 chiamiamo noi che contiene un bottone file che sarebbero queste slide che vi sto facendo vedere adesso quindi se cliccate il bottone file scaricate queste slide qui se volete così andare di vedere sì prego benissimo allora dicevo arrivate ecco qui dicevo se cliccate questo ma addirittura qui possiamo anche andarlo a vedere qui perché io avevo appunto aperto questo è la pagina del seminario delle mappe per dire vedete questo bottone file qui vi scarica queste slide questo qui invece vi scaricherà le slide quelle effettive del seminario che vedremo adesso e poi qui chiaramente c'è anche il bottone test per fare il test che vediamo adesso il bottone video quindi questo quello dovete fare in realtà poi qui vedete cosa succede se volete vedere ecco scaricare il file abbiamo detto se volete vedere il video della registrazione chiaramente cliccando video parte una schermata come questa e parte il video e naturalmente poi dopo qui potete ingrandirlo cliccando la solita iconetta per ingrandire tutto schermo è importante il video vi rimane a disposizione a tempo determinato quindi voi questo seminario qui sempre che vi siate iscritti chiaramente lo potete vedere anche fra sei mesi un anno quando volete bene poi c'è il test il test è una cosa molto semplice nel senso che sono dieci domande con risposte precompilate vedete qui bisogna scegliere la risposta giusta quindi non c'è niente di difficile il test riguarda quello che io dirò oggi durante il webinar per cui non fatevi problemi pensando che sia una cosa è che a noi secondo il regolamento nazionale serve stabilire cioè verificare se uno ha seguito il seminario o in diretta o registrato per cui chiaramente avete qui le domande che facciamo di solito per questo caso qua dico abbiamo trovato un risultato qual era il risultato che abbiamo trovato chiaramente se uno ha seguito il webinar lo sa perché lo vede anche nelle slide se no se uno fa il test senza neanche aver visto il seminario lo sbaglia chiaramente ecco diciamo che il tempo è di un'ora a disposizione quindi avete tutto il tempo che volete per dirci domande poi dopo qui ecco l'unica cosa che vi dico poi termino per cui se non lo superate tenete presente che noi abbiamo il 97 per cento che lo supera il primo tentativo ma se doveste non superarlo perché per distrazione l'avete fatto un po' così c'è anche il secondo tentativo da poter fare il test altrimenti se si supera vedrete il credito assegnato ecco cosa importante la scadenza l'unica cosa importante è questa il test scade il 21 luglio quindi se volete avere il credito tenete in mente questa data perché se non fate il test dentro questa data non prendete il credito poi salto via un po' di roba perché vado direttamente dopo qui queste ve le leggete qua i vari report che dà che dà la piattaforma eccetera mi interessa farvi notare il forum perché vedete che possiamo vederlo anche sempre da qui qui nella pagina del seminario avete il bottone vai al forum del corso il forum del corso è questa roba qui noi qui abbiamo varie tematiche quella di oggi riguarda il tema cattasto terreni e riconfinazioni e quindi qui potete andare a scrivere quello che volete e quindi fare anche domande dopo il seminario e importante noi vedete quando carichiamo i crediti questi sono i seminari fatti quest'anno diamo questa comunicazione qui siamo 7 giugno caricati i CFP dei seminari 333 e poi cliccando su questo link qui troverete tutte le istruzioni adesso l'ho cliccato per andare a verificare per vedere ecco se non trovi i CFP se non ti è arrivata la mail del SINF e tutto quello che c'è da sapere per avere i crediti bene io direi che adesso qui salto tutta questa parte qui qui poi trovate risposte in mani più frequenti quindi ve la vedete direttamente sulle slide e entriamo direttamente sul tema allora primo tema è questo qui adesso lanciamo anche le slide se non domande nel frattempo Sergio Corrado no domande normale sì nulla di importante domande alcuni chiedono se si sono iscritti alla prima sessione se possono seguire anche la seconda e eventualmente adesso io non so se Gianni dovevi fare due iscrizioni perché non l'ho fatta ma io ho detto di sì eventualmente per prendere il credito si possono iscrivere sì sì bisogna fare due iscrizioni vedete qui i seminari sono ufficialmente sono due quindi se vi siete iscritti solo al primo dovete iscrivervi anche al secondo per avere il credito anche del secondo poi il webinar è l'unico però mi chiedevano anche se sono collegati se possono continuare a vedere penso di sì 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 io oggi vado avanti non faccio neanche pause né niente perché poi su YouTube se facciamo la pausa rimane lì dieci minuti fermo lo schermo insomma quindi oggi io vado avanti chiaramente passo da un tema all'altro però ecco per avere il credito dovete iscrivervi a entrambi ok allora qui quello che vedremo oggi su questo ecco il tema qui è mappe di impianto e lievi sopra la cartografia catastrale se le entrate e poi qui vedremo ecco faremo anche un ripasso su PF misurate perché poi su questo visualizzatore della cartografia catastrale sono anche i PF remisurate poi vedremo invece come sovrapporre la mappa di impianto vedremo come sovrapporre un rilievo e poi vedremo come vedere in trasparenza tutto tutte queste cose qua la mappa catastrale la mappa di impianto rilievo eventualmente Google Earth ecco adesso io qui in realtà beh vado avanti un attimo qui sulla slide ma dopo di che torno direttamente qua sul sito ecco qui per entrare nel nostro visualizzatore delle mappe di impianto delle mappe catastali della cartografia catastrale vedete vedete andare sul sito che si chiama topgeometry.it qui trovate poi qui adesso non guardate la grafica che la stiamo un po' sistemando trovate questa immagine mappa catastrale e PF misurate cliccandoci sopra entrate effettivamente nella cartografia inizialmente appare l'Italia tutta intera qui vedete potete poi selezionare la provincia se io seleziono qua il comune dove mi trovo che è Bassano del Grapp vedete che allora lui va direttamente su questo comune qui poi seleziono il foglio di mappa se vado qui dove sono qui con gli uffici che è il foglio A11 e vedete che allora lui si posiziona su questo foglio in realtà lui si posiziona proprio col centro dello schermo sul centro del foglio e qui vedete che cominciate a vedere i punti fiduciali questa è la mappa catastrale eccetera qui può essere anche cercata la particella per esempio adesso io vado su 886 che è esattamente la particella eccola qua del mio ufficio io sono qui dentro in realtà qui poi si potrebbe anche fare guardate localizzami se clicco localizzami lui in base all'IP con cui sono entrato vedete mi dice guarda che tu sei qua dentro e io sono effettivamente dentro a questo fabbricato qui adesso però tono un attimo sulla slide perché noi abbiamo fatto un seminario l'anno scorso adesso lo citerò perché probabilmente molti di voi sanno che l'agenzia delle entrate ha messo a disposizione la cartografia perché tenete presente questo lo dico ecco tanto per essere molto chiari che questa cartografia catastrale non è che sia un servizio che abbiamo fatto noi di top geometry vedete qui è scritto dappertutto vedete agenzia delle entrate 2021 questa è una cartografia di proprietà dell'agenzia delle entrate solo che poi l'agenzia delle entrate l'ha messa a disposizione al pubblico e quindi io qua su questo voglio voglio farvi un piccolo ripasso perché questo è successo nel 2018 tramite WMS che vuol dire web map service adesso vedremo anche tutte queste sigle in realtà questo questa messa a disposizione della cartografia deriva da una direttiva europea denominata INSPIRE adesso detta all'inglese poi questo qui è poi diciamo lo sviluppo dell'acronimo e poi qui chiaramente questa cartografia catastrale messa a disposizione dell'agenzia segue una precisa licenza che si chiama avete creati commons cc e poi c'è una sotto condizione che si chiama buy adesso ci arriviamo ma non ve la faccio lunga questa roba qua quindi praticamente il geoportale cioè la rischia delle entrate ha un geoportale che si può anche consultare direttamente si basa sulla famosa tecnologia GIS Geographic Information System che è un settore che come saprete ormai è molto collaudato molto utilizzato per cui insomma tant'è che poi abbiamo anche in animo di fare un bel corso su QGIS che è un software poi GIS gratuito libero da licenza per cui ci torneremo su questo tema qua e qui vi avevo messo appunto vi dicevo che l'anno scorso il 31 marzo abbiamo tenuto un seminario proprio su perché lì è stata la prima volta che abbiamo messo in linea la cartografia cartastrale dell'agenzia e lì vi rimando a vederlo qui se andate sul sito corsigeometri appunto it se andate qui sotto a un certo punto lo troverete è questo qui il 265 per cui se volete saperne di più su queste cose andate a vedervi tanto è gratuito non dà più crediti eccetera altrimenti qua io vi ho messo questo pdf che vi darò assieme al materiale questa sera in cui vi ho riepilogato quelle slide di quella volta ecco qui e vi ho messo cosa vuol dire GIS la sigla cos'è in sostanza un GIS cosa vuol dire WMS cosa vuol dire OGC l'Open Geospatial Consortium che poi è quello che definisce i sistemi sistemi di riferimento cosa vuol dire il GIS cioè cos'è la direttiva Inspire quindi che qui vi spiego un po' adesso chiaramente in maniera molto molto riassuntiva perché poi se uno volesse leggersi questa direttiva sono pagine e pagine ma comunque e poi vi parlo appunto del geoportale dell'agenzia che è quello che poi eroga la cartografia e poi qui ho messo anche la slide della licenza cosa significa licenza cc derivazione by e quindi qui è scritto cosa puoi fare cosa non puoi fare perché ci sono delle cose che si possono fare cose che non si possono fare e per cui insomma questa ve la faccio così molto succinta perché se volete andate sia a vedervi il seminario e sia se no a leggervi questo diciamo pdf qui allora qui adesso lascio perdere le slide perché tanto qui guardiamo tutto dal vivo quindi eravamo qui dicevamo dicevamo dei punti fiduciali perché ovviamente una delle esigenze che abbiamo noi geometri è quella di consultare i punti fiduciali e le misurate appaiono tutti i punti fiduciali di questo comune di questo foglio e qui vedete che se io faccio un doppio clic su un punto fiduciale appaiono i dati di questo punto quindi provincia particella monografia data di aggiornamento le coordinate Gaule Boaga Cassini Sordner importante qui poi ovviamente è scaricare la monografia e oltre alla monografia poi qui potete aprire street view per cui diciamo qui questo pf era in realtà lo spigolo di questo muretto qui ecco questo è una strada qua vicino a me quindi qui questo è il discorso dei pf naturalmente importante perché poi bisogna saperli questi dati e vedete appunto che è sulla scaricata e che il pf è appunto quello spigolo di questo muro qui quindi questi punti fiduciali che mi interessano lui li collega con queste linee blu e poi qui andando a cliccare su una di queste linee blu vedete che diventa quel punto gialla appare questa maschera qui in cui lui mi fa vedere tutte le misurate che ha avuto questa coppia di punti fiduciali qui quindi mi fa vedere tutti i protocolli mi fa vedere la media dei protocolli e quindi voi qui sapete tutte le misurate che ha quella coppia di punti fiduciali quindi lì potete poi fare la verifica con la vostra con la vostra misurata vedere se è intolleranza se è intolleranza eccetera vedete qui c'è un bottone qui in fondo si chiama cartografie mi dà un messaggio che riguarda la licenza e poi mi dice ecco che adesso lo sfondo vedete sarebbe su open street map open street map ties sarebbe chiaramente qui la cartografia di open street map che ha le strade è una cartografia diciamo un po' di tipo urbanistico per cui vedete vedo le strade vedo i nomi delle vie eccetera ma potrei in realtà qui mettere anche come sfondo google earth quindi se cambio sfondo qui vedete che allora adesso lui ha messo come sfondo google earth per cui io posso vedere qui la trasparenza vedete questo è un cursore della trasparenza quindi posso andare a spostarlo verso sinistra e vedere appunto la mappa cartastale in trasparenza su google earth questo è un altro così cosa interessante perché effettivamente può essere sempre importante vedere la situazione della cartografia cartastale attuale con google earth quindi questo era quello che dicevo su questa live qui poi invece questo è appunto la live che abbiamo appena visto adesso qui vediamo il discorso di come mettere una mappa di impianto allora qui vediamo un attimo i concetti poi io ve lo farò vedere con un software però poi è chiaro che non è che posso pensare di fare un seminario in cui vi dico si fa con questo software qui si fa con questo software là devo anche dirvi come potreste farlo senza software direttamente da soli ecco non è semplice perché qui le operazioni da fare questa è una mappa di impianto questo è il mio software core map che serve appunto per georeferenziare le mappe di impianto e qui cosa bisogna fare bisogna fare tre operazioni bisogna georeferenziare la mappa la mappa chiaramente è un file raster un file immagine e quindi non ha coordinate particolari le coordinate sono in pixel quindi bisogna georeferenziarla poi vedremo anche come sia come si potrebbe fare direttamente a mano sia come si può fare col soft core map poi una volta che l'ho georeferenziata significa attribuirgli le effettive coordinate catastali perché ovviamente la mappa ha delle coordinate no cioè le mappe del catasto sono andiamo forse su questa che ha sia il nord che l'est vedete hanno le coordinate nord ed est segnate per cui io al file raster che è semplicemente un'immagine devo dirgli guarda che questo crocicchio qui dei parametri vedete questo è il numero 1 vedete se andiamo qui devo dire guarda che ha coordinate est meno 2800 nord più 400 questo vuol dire georeferenziare quindi fargli attribuire le coordinate catastali effettive questo è il primo punto poi dalle coordinate catastali effettive devo calcolare le geografiche VGS 84 quindi longitudine e latitudine a partire da quelle catastali perché poi diciamo la mappa sia Google Earth sia il visualizzatore della cartografia catastale ovviamente lavora in coordinate geografiche per avere ovviamente tutta tutta l'Italia compresa e poi una volta che ho trasformato appunto le coordinate catastali in geografiche devo poi sovrapporla sulla cartografia dell'agenzia ecco come si farebbe a mano a mano insomma facendo dei calcoli allora per quanto riguarda la georeferenziazione bisogna applicare un algoritmo che si chiama rotototelazione a quattro parametri è un algoritmo che ha anche una direttiva dell'agenzia dell'entrata dell'ex agenzia del territorio del 2008 che dice che va usato questo algoritmo chiaramente è un algoritmo matematico è un calcolo abbastanza complesso matriciale e per quelli di voi che volessero imparare a fare questo calcolo ecco io ho tenuto un corso che riguardava le riconfinazioni ma siccome anche nelle riconfinazioni c'è da applicare questo algoritmo lì l'ho spiegato e l'ho spiegato mettendo a esposizione dei file excel che vi permettono di inserire le coordinate pixel e ottenere le coordinate georeferenziate catastrali quindi se uno vuole segue questo corso ha questi file excel e se lo fa anche da solo ovviamente non è che sia semplicissimo non è che sia una cosa come fare 2 più 2 però ecco uno che ha buona volontà passione ci riesce poi dopo dicevo bisogna una volta che io ho trovato le coordinate catastrali devo trasformarle in geografiche e qui c'è un altro algoritmo si chiama trasformazione euleriana inversa perché normalmente si fa quella che trasforma da dal sistema vedete geocentrico del gps per dire a quello topografico piano mentre qui bisogna fare il contrario da coordinate topografiche piane trasformarle in geografiche e qui poi lo vedremo tra l'altro su un file excel quando parleremo poi della gestione grafica dei rilievi perché ve l'ho messo qui proprio c'è un file excel in cui vi spiego anche come farlo adesso vediamo se si apre excel qui e ho messo anche un file excel che vi dà la possibilità di farlo direttamente anche qua dobbiamo un po' conoscere i parametri dell'elissoide eccetera calcolare longitudine e latitudine e poi trasformare da coordinate topografiche a coordinate geocentriche eccetera comunque poi magari lo vedremo e se no bisogna seguire questo corso questo è un corso secondo me storico l'abbiamo tenuto da finito nel 2019 è durato un anno e mezzo erano tre moduli geodesia cartografia per geometri ecco qui questo corso qui l'hanno tenuto due professori universitari Maseroli e Surace e qui abbiamo sviscerato tutti questi aspetti tutti questi calcoli e quindi ecco uno che volesse farsi le ossa anche su questo lo può fare ovviamente ovviamente qui non è semplice perché ripeto non sono certo calcoli semplici però insomma lo si può fare ecco una volta che ho le coordinate geografiche longitudine e latitudine ecco nel nostro caso qui cosa utilizziamo noi per fare questa operazione utilizziamo il file KML che è il formato standard di Google Earth Google Earth appunto con questo formato KML poi anche il KMZ che congloba anche l'immagine congloba anche altri elementi noi invece siccome l'immagine ce l'abbiamo già facciamo un KML in cui praticamente cosa facciamo vedete questo è un file che ha una sua sintassi che se volete la trovate sulla documentazione che mette in espressione Google bisogna praticamente dirgli qual è il file JPEG il file RAST della mappa e poi bisogna dargli le coordinate geografiche cosa vuol dire nord sud est o ovest vuol dire questa è la latitudine del bordo sopra della mappa questa è la latitudine del bordo sotto questo è la est cioè il bordo a est quindi a destra questo è il bordo a sinistra e questa è la rotazione perché poi sapete che tra cartografia catastale cioè tra Cassini soldi che sono i sistemi riferimento catasto e il WGS 64 c'è un leggero disorientamento del nord per cui bisogna anche dargli questa rotazione tutte cose che si fanno con il calcio che ho detto prima e questo file KML per esempio qui su CoreMap cosa ho fatto io su questa mappa mi sono limitato vedete a dare i 4 crocicchi d'angolo mentre invece poi nei lavori veri e propri si danno poi anche i crocicchi quelli intermedi che formano i quadranti della zona che mi interessa qui non mi interessava e qui vedete che c'è questo bottone Google Earth che crea questo file KML adesso me lo vado a mettere direttamente qui sulla cartella del webinar che c'è già ma lo sovrascrivo vedete mi sovrascrivelo sì e poi lo vedete che lui adesso se dico apri il file me lo va a mettere su Google Earth su qua avevo già aperto Google Earth sulla zona più o meno dove siamo e adesso lui pian pianino mi fa vedere la mappa su Google Earth quindi questo vedete adesso qua lo mettiamo girato giusto a nord questo è lo scopo il file KML per quanto riguarda Google Earth poi sapete che qui posso mettere andare sulla trasparenza e mettere in trasparenza e quindi vedere per esempio qui cosa succede cioè vedere in sovrapposizione la mappa di impianto con Google Earth vedete questa qui è la mappa se vado in trasparenza vedo che adesso qui non è che sia proprio nitidissima questa zona qua però vedo che questi fabbricati qui vedete indicati questi fabbricati di impianto sono probabilmente molto modificati adesso e si vede anche poco di la verità mentre per esempio questi qui questi 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 qui che vediamo attualmente non ci sono proprio quindi chiaramente la mappa queste mappe venete sono di 100 anni fa quindi c'era poca roba all'epoca ecco adesso c'è molto di più andiamo a vedere per esempio qui vedete ecco qui anche qua si vede in trasparenza vedete questa è la mappa e sotto vedo il fabbricato com'è adesso dopo qui la sua posizione non è che sia mai perfetta per cui sapete anche che poi qui su google earth si può anche andare qua e dire proprietà e andare a spostarla chiaramente è un po' difficile farlo questo perché dovrei essere sulla zona e dovrei mettere trasparente qui e poi dovrei vedete andare sulla zona però qui il problema è che devo farlo sempre tramite questa croce centrale per cui se vado qui andiamo aspetta qui adesso ho messo troppa trasparenza poi qua ci vorrebbero schermi sempre e no vedete qui posso spostare e posso diciamo farla combaciare meglio ecco questo è quello che si può fare quindi insomma questo è il concetto del file kml e questo è quello che usiamo anche noi adesso qui non so amedeo se torniamo a fare andare le misurate clicco questo pf viene blu questo pf viene blu adesso clicco anche questa e clicco anche ecco e vedete man mano che io clicco i punti fiduciali lui mi me li congiunge e sulla congiungente mi dice anche quante misurate ci sono quindi in sostanza qui vedete si adesso vado su questa si colora di giallo ci clicco sopra e vedete quello che vi dicevo sulla slide vediamo qui i vari protocolli vedete tutte le distanze misurate da questi da questi protocolli qua e la media qua in cima poi se clicco su uno vedo anche cosa ha fatto questo qui questo ha preso più o meno i stessi punti più questo qui se clicco qua questo ha fatto la stessa roba mi pare di capire ecco questo invece è andato qui verso verso est e via andare insomma quindi adesso qui non so se poi osserva vedere cosa ha fatto uno cosa ha fatto l'altro quello che serve ovviamente è semplicemente vederle misurate e poi fare il controllo cosa che poi si fa anche con i soft e si fa anche con il software geocat che vi presenterò dopo eccome insomma qui potete avere questa visione qua poi tiriamo via tutto questo adesso dicevamo che allora avendo io creato il file kml posso prendere quella mappa georeferenziata e andare a sovrapporla qua sopra allora come si fa qua si va su cartografie vedete qui c'è proprio una scelta che dice core map mappa georeferenziata mi dice scegli file ecco qui in realtà i file bisogna scegliere due perché il kml abbiamo detto ha il riferimento al jpeg il jpeg è questo se no dovrebbe fare con file kmz ma insomma visto che nel nostro caso uno ha sia il jpeg sia i raster sia il kml vedete apro questi due file qui mi viene proposta vedete l'anteprima mi dice tu hai scelto questo file qui se dico cambia sfondo adesso lui cosa fa va direttamente sopra quel foglio di mappa vedete adesso questo è uno zoom molto molto rimpicciolito per far vedere i fogli vedete questo qui è il foglio 37 qui si vedono i bordi della cartografia dell'agenzia e questa è la mappa di impianto nostra vedete questo dopo non coincide mai perfettamente perché chi ha seguito i nostri corsi sulle riconfinazioni sul catastro sa che la mappa catastale deriva da una serie di passaggi che l'hanno degradata per cui diciamo ha subito una serie di deformazioni tali per cui poi non combacia mai con la mappa di impianto e questo è un problema sicuramente però ecco diciamo che grosso modo ci siamo quindi qui adesso posso andare su questa zona e posso andare a vedere in sovrapposizione per esempio adesso andiamo a mettere un po' ecco in trasparenza vedete se vado qui in alto dove c'erano quei fabbricati all'impianto vedete qui questo è la cartografia catastale questo è l'impianto anzi tiriamo via eccolo qua questo è un impianto puro vedete che all'impianto c'erano questi fabbricati cosa sono diventati adesso lo metto con una trasparenza molto leggera qui se guardate appunto queste sagome più in arancione molto sfumato questo è la cartografia catastale di adesso questo chiaramente è fondamentale per chi per esempio fa riconfinazioni perché io devo essere tranquillo che il fabbricato di impianto sia ancora lo stesso invece non lo è per niente vedete adesso il fabbricato è questo qui molto più grande questo anche non forse corrisponde ecco qui magari corrispondono in due versi adesso qui può darci sia appunto da questo che è il lato dell'impianto a questo qui che è il lato attuale è solo un problema di disalineamento delle due cartografie poi qui ne parlavamo con Sergio l'altro giorno che adesso non abbiamo fatto il tempo a farlo ma stiamo lavorando anche per permettere che qui io sposto la mappa di impianto per far combaciare il lato perché probabilmente questo lato qui di fatto è rimasto tale e in effetti è rimasto tale perché qui ha fatto un rilievo io proprio su quel punto lì e l'abbiamo preso come spigolo di fabbricato di impianto ecco però vedete questo è importante dopo qui potrei anche volendo se mi danno fastidio i fiduciali toglierli togliere sia le etichette sia i pallini e vedere appunto la situazione ecco questo è un po' il l'utilità diciamo che ha questa sovrapposizione non è che non si potesse fare prima di questa sovrapposizione si poteva fare anche lo stesso adesso non so tu Sergio mi pare ma anch'io insomma la facevi addirittura su CAD con l'estratto Vegis giusto non so se vuoi dire due parole magari anche perché ecco non vorrei che si capisse che adesso solo da oggi si può fare sta cosa si poteva fare anche prima no 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 certo io lo faccio ancora oggi si faccio sempre la sovrapposizione tra la mappa di pianta e la mappa Vegis che mi serve un attimo a fare un'indagine storica di verificare le due mappe ti dà la possibilità di eventualmente fare un minimo di indagine storica per vedere cosa è successo e niente puoi ricavare degli elementi utili ecco secondo me è un'indagine che va sempre fatta sì adesso chiaramente farla sugli strati Vegis poi devi averne più di uno perché la zona è ampia e mi ricordo che tu le mettevi sull'autocad tiravi via lo sfondo sì io di solito tengo buono tiro via lo sfondo del Vegis che mi è più semplice e tengo lo sfondo della mappa di pianto e poi sovrappongo le due diciamo do come caratteristica alla mappa Vegis in trasparenza gli dico di farla vedere in trasparenza e quindi riesco a sovrapporle bene tutte e due sì ecco però voglio dire un po' di lavoro lì ti va via perché mi sembrava no è un lavorone cioè un lavorone cioè nel senso ci va un po' di tempo effettivamente qui è molto più pratica la situazione sì qui è tutto il foglio lì mi ricordo dovevi prendere anche 3-4 estratti poi dovevi ricavare i raster poi dovevi togliere lo sfondo poi dovevi fare sì beh dipende se hai degli estratti piccoli sì potresti anche richiedere tutto il foglio quindi tu fai sovrapposizione tra il foglio vetis completo e il foglio di impianto completo però ecco è più complesso sicuramente è un procedimento più complesso sì sì poi lo devi fare da CAD devi anche appunto sapere smanettare un po' bene ecco quindi vabbè insomma adesso noi abbiamo questa soluzione qui naturalmente vedete qui c'è un altro fabbricato che anche qui poi vedete che qui c'è un grosso disalineamento poi vedete che qui poi come diciamo anche il corso in queste materie c'è un linee che combaciano quasi bene qui vedete andando giù combaccia ancora meglio qui parte che combaciano poco poi combaciano di più qui c'è uno sfasamento che sarà di qualche metro cioè quindi purtroppo lì c'è questo fatto e quindi adesso appunto come dicevamo con Sergio cercheremo di fare in modo che io la mappa di impianto se riconosco che questo lato il fabbricato è rimasto ancora quello me la sposto lì e vado a verificare in maniera un po' più diciamo un po' più corretta quindi questo è un po' la logica poi allora qui c'è il discorso di andare a metterci sopra anche il rilievo qui adesso vedete io ho aperto il software Geocat che è il mio software di topografia e questo è proprio un rilievo fatto in questa zona che aveva tre fiduciali poi forse un altro avete un quarto qui alla fine e anche qua adesso però magari torno sulle zai perché qui eravamo rimasti un po' a cosa bisogna fare per farlo a mano e andiamo anche qui a vedere cosa deve fare per farlo a mano cioè come si fa a portare un rilievo topografico sopra la cartografia catastrale no? anche qui allora bisogna allora se è un rilievo qui andiamo già qua in fondo no? per dire che bisogna calcolare le coordinate geografiche longitudine e latitudine da lì non si scappa no? ovviamente se è un rilievo a base GPS quindi fatto col GPS anche se poi integrato con la stazione totale chiaramente il GPS ce le ha già le coordinate geografiche quindi lì non è che devi fare altro no? se invece come in questo caso qui era un rilievo solo stazione totale se hai un rilievo solo stazione totale cosa fai? cioè perché lì non hai niente no? devi avere i fiduciali se hai i fiduciali chiaramente i fiduciali come dicevamo prima possono essere le coordinate quindi posso calcolare il rilievo in coordinate catastali in base ai fiduciali e poi posso trasformarlo sempre seguendo questi calcoli di quel corso eccetera in coordinate da catastali a geografiche sempre con quelle formule poi vedremo anche il file Excel che vi ho accennato appena prima e poi naturalmente una volta che ho calcolato l'ultitudine chiaramente creo che lì un file KML e lo vado a mettere sopra la cartografia qui di fatti vedete che se io di questo rilievo qua vedete ho un bottoncino qui dice export Google Earth adesso lui mi crea il file lo salvo sopra quello che avevo già fatto e mi dice poi i colori con cui voglio vedere le varie entità confermo questi mi dice se voglio già aprirlo gli dico di sì e vedete che adesso lui va a mettermi anche il rilievo sopra sopra la mappa di impianto in sto caso e sopra anche adesso qui siamo su Google Earth e basta di la verità per cui qui posso vedere semplicemente dpf dove cascono vedo la situazione del rilievo sopra Google Earth ma tornando sul nostro visualizzatore qui chiaramente vediamo che se io adesso prendo quel rilievo quel KML creato dal programma dopo qui naturalmente se uno vuole se lo fa anche a mano dicevamo ecco non è che sia un problema vado a quale dico geocat rilievo dico scegli file e questo è il file che avete creato appena adesso le 15.50 apri aggiungi layer e qui io adesso vedo il rilievo sopra che cosa abbiamo detto sopra la mappa di impianto che è questa qui no e sopra invece la cartografia catastrale che è questa qui vedete questo è un IPF qui c'era un pilastrino in cemento che era un altro PF e questa è la sovrapposizione che si può ottenere quindi rilievo mappa catastrale dell'agenzia attuale e mappa di impianto qui adesso non so Sergio Corallo se c'erano domande perché si sta andando via come un treno ma non vorrei aver lasciato indietro domande dubbi chi ne vedo o diverse voi le avete lette no niente di particolare Gianni nel senso quelle che riusciamo a rispondere stiamo rispondendo io Corrado ma sono domande diciamo che si può rispondere anche così abbastanza generiche ecco alcuni chiedevano ogni quanto tempo sul portale di Top Geometry diciamo le misurate vengono aggiornate ovviamente ogni volta che l'agenzia metterà il nuovo file a disposizione ecco sì noi diciamo ogni volta che si mette i nuovi file di riset a disposizione noi aggiorniamo il tutto e quindi direi che sono abbastanza aggiornati poi ci può essere il mese che aggiorniamo 15 giorni dopo ecco ma diciamo che normalmente la cosa è abbastanza aggiornata ecco non so tu e poi c'è la classica domanda Gianni che purtroppo ci fanno sempre perché sai che alcune agenzie non hanno scansionato le mappe di impianto alcuni geometri ci chiedono come fanno a reperire ovviamente se non le hanno a disposizione i collegi l'unica è chiedere all'agenzia se pagando gli danno le mappe perché ormai le avrebbero scansionate allora guarda Sergio beh ma l'abbiamo detto ai nostri corsi io poi l'ho poi sancito su un corso che ho tenuto a Brescia l'anno scorso prima del covid lì che poi lì a Brescia non le hanno neanche non le avevano neanche loro per cui quello che è successo in Italia è stato questo che fino agli anni 2008 2009 2010 diciamo c'era c'era la possibilità c'era una convenzione che l'agenzia aveva stipulato cioè i collegi con le geometri o chi voleva o chi voleva praticamente stipulava una convenzione con l'agenzia del territorio all'epoca si chiamava tramite la quale poteva avere le mappe e scansionarsele in proprio naturalmente con un'assicurazione contro eventuali danni e tutta una serie e diciamo metà provincia italiane metà collegi di geometria di provincia italiane hanno aderito a questa convenzione e le hanno scansionate qui nel Veneto l'hanno fatto tutti l'hanno fatto tutti in Toscana l'hanno fatto tutti provincia a Salerno per esempio sono stato anche al seminario quando le hanno distribuite ecco poi in alcuni casi come sai Sergio in Piemonte l'ha fatto addirittura la regione per cui insomma in queste province in queste regioni le mappe le abbiamo perché i collegi le hanno scansionate a spese proprie poi naturalmente si sono fatti rimborsare dagli iscritti facendo i dvd distribuendo i dvd e recuperando la spesa ecco poi dopo stranamente dopo qui anche meno stranamente a un certo punto l'agenzia ha stoppato quella convenzione quindi non si è più potuto quindi chi è rimasto fuori è rimasto fuori però cosa è successo che nel 2014 l'agenzia delle entrate ha dato in appalto cioè la Sogei poi che è la società appunto pubblica che sovrintende un po' queste cose ha dato in appalto la scansione di tutte le di tutte le province che hanno rimaste prive e questo appalto poi è andato avanti si è concluso e quello che ho reperito io che ho saputo io quella volta a Brescia ma dopo l'ho saputo anche da altri colleghi di altre province è che adesso ci sono effettivamente le mappe di impianto di tutte le province italiane il problema è che non le hanno date ai collegi ce l'ha l'agenzia e se vuoi la mappa devi sentire l'agenzia te la fanno pagare anche mi pare bella carotta perché mi sembra che chiedono 50 euro cioè chiedono una cifra non bassissima ma probabilmente anche per recuperare un po' la spesa per cui in effetti se sentite la vostra agenzia dopo lì se sentite l'agenzia provinciale trovi sempre quello che ti dice no ma io non so niente no ma noi no ma noi no ma noi no ecco cioè perché per loro rispondere a una cosa così dopo vuol dire cercare capire fare quindi lì bisogna insistere però vi assicuro che i colleghi che hanno chiesto cioè colleghi delle province che non le avevano che hanno chiesto all'agenzia provinciale le hanno ottenute sì Gianni c'era qui un collega al manno che diceva che nella sua provincia a Vellino 20 euro le danno quindi secondo me bisogna chiedere bisogna svegliare un po' i dirigenti di queste agenzie che si diano da fare anche perché sono documenti importanti e sono pubblici perché non ce li devono dare pago ma sì sì ma anche perché poi c'è anche una disparità adesso di trattamento perché ci sono sì ad esempio sai Gianni scusa leggevo alcuni 60 euro li fanno pagare alcuni 20 euro al foglio vedo già più di persone 20 euro alcuni 60 euro quindi tu pensa a te come siamo messi in Italia eh sì sì in Italia siamo così infatti io mi ricordavo Brescia costavano 50 euro capito e quindi si vede che adesso qui ho visto parecchi colleghi che dicono 20 euro di province diverse quindi in teoria dovrebbe essere 20 euro la cifra eh può darsi perché poi ti dico io questo seminario è ormai di un anno e mezzo più fa per cui può darsi che magari poi abbia un uniformato beh 20 euro mi sembra anche sì carina lo stesso sì sì una cifra che pagheremmo tutti ecco quando hai bisogno lo prendi e paghi sì 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 ecco noi qui per dire Padova cioè con 150 euro uno si porta a casa tutti i dvd di tutta la provincia a tutta la provincia è finito lì capito ecco per cui però insomma bene mi fa piacere che questo fatto è che questo fatto sia assodato però qui c'è anche un 60 euro dice Francesca sì ma non ho capito se è il collegio che le ha date a 60 euro no dice dice il comune di Roma e provincia vabbè sembrerebbe il foglio che mi sembra carotto ma vabbè dai comunque probabilmente c'è ancora un po' di differenziazione tra tra zona e zona ma se fosse 20 euro comunque insomma diciamo che ormai le mappe di impianto ci sono in tutta Italia e per cui non c'è più questa disparità che c'era prima perché prima effettivamente c'era il collega di Verona che lavorava sconfinava in provincia di Brescia lui ce le aveva le mappe di impianto e di là non ce le aveva no per cui era un po' brutto tutto questo insomma andiamo avanti qui altra cosa interessante è che io qui poi noi abbiamo messo in discussione anche una serie di altre cartografie e cosa vuol dire vuol dire che qui noi abbiamo inserito una serie di cartografie predefinite insomma sono cartografie pubbliche che esistono e le abbiamo inserite in questa lista vedete qui GM25000 di Agostini le varie ortofoto le varie epoche abbiamo inserito qualche carta qualche CTR regionale naturalmente del Veneto Lombardia ecco noi siamo qui nel Veneto per dire non so cosa vuol dire questo vuol dire che se io clicco carta regionale ortofoto a colori del Veneto vedete che adesso io qui vado in trasparenza e non vedo più la mappa di impianto non vedo più Google Earth OpenStreetMap ma vedo la carta tecnica del Veneto questo potrebbe essere interessante perché a parte quelle predefinite perché per dire le ortofoto vengono usate moltissimo per esempio per chi come me fa lavori di riconfinazione è importantissimo per dire non so uno dice ma lì quel muretto lì è lì da 40 anni per cui quello è sempre stato il confine si beh andiamo a vedere sulle ortofoto se c'era 10 anni fa 12 anni fa fino fino quando c'era e quando non c'era ecco quindi capite che lì è importante e quindi questa è un'altra prestazione che diamo ma ancora più importante anche se qui bisogna avere qualche nozione tecnica è il fatto di poter avere una cartografia personalizzata quindi vedete qui io adesso ho scelto cartografia personalizzata mi si è aperta questa form naturalmente adesso avendo io ho già scelto la cartografia la ctr veneto mi è già venuto fuori l'url il layer a colori e il questo è il sistema di riferimento che poi è codificato poi vi ho dedicato anche una slide ma cosa vuol dire questo vuol dire che se voi foste in grado di avere questi dati su una cartografia pubblica non so un piano urbanistico della vostra città del vostro comune qualsiasi altra cartografia se riuscite che sia chiaramente resa pubblica ma credo lo siano più o meno tutte chiaramente qui cosa volete fare potete se avete l'url cioè l'indirizzo internet il layer e il sistema di riferimento potete andare a sovrapporre addirittura quella cartografia lì se non so se vi può essere chiaro questo discorso qui quindi direi che insomma è una cosa carina perché di là dell'aspetto catastale che è quello che riguarda spesso noi geometri ma poi c'è anche un aspetto urbanistico per cui voglio vedere in che zona ricado in che destinazione d'uso di zona di ricado eccetera eccetera quindi anche quello può essere interessante ovviamente lì bisogna avere qualche informazione in più nel senso che qui io poi l'ho scritto anche in questa slide qui vedete bisogna avere questi dati che sono poi sostanzialmente il tipo di WMS l'url il layer e il colce di riferimento del sistema di riferimento appunto special reference system che poi è anche lì se seguite quel corso dell'anno scorso abbiamo spiegato bene ci sono vari codici sono stati definiti appunto da un consorzio a livello mondiale per cui qui questi sono quelli che riguardano l'Italia chiaro che qui un po' di un po' di conoscenze bisogna averle però neanche più di tanto insomma se uno interpella il comune che ha che ha diciamo creato la cartografia probabilmente questi dati qua riesce ad averli ecco quindi direi che ecco poi qui vi ho messo anche un pdf che vi parla di questi sistemi di riferimento vi spiega un pochino meglio cosa si riferiscono eccetera e penso che io avrei terminato ecco poi dopo ho messo due slide tanto perché per darvi così un'indicazione se volete diciamo avere il nostro visualizzatore sul tablet android qui allora vi ho messo come fare ma è molto semplice basta aprirlo dal tablet puoi dire aggiungi schermata home quindi a quel punto lì hai l'iconetta su schermata home oppure stessa roba sull'ipad in pratica se avete l'ipad apple quindi fate così ve lo trovate poi nello schermo dell'ipad ok no no ti volevo volevo chiederti se volevi fare un commento su queste sovrapposizioni ecco sull'utilità che posso direi che assolutamente sono io le uso moltissimo perché le uso sia prima di andare a fare il rilievo e quindi che faccio tutta un'indagine che poi avere la possibilità di mettere anche il rilievo sopra diciamo è sempre utile perché uno riesce eventualmente se hai un dubbio se hai una situazione diciamo da verificare riesci comunque a farsi un super luogo virtuale che comunque ti evita di dover tornare molte volte o comunque ti rimane il dubbio se non vuoi tornare rischi magari di e quindi è sempre utile secondo me anche quando si fanno le righe di collegamento di frazionamenti e tutto se ho la possibilità di vederle poi già posizionate sulla cartografia aerea sulla foto aerea è sempre una cosa utile bene qui in realtà vedevo che c'era anche una domanda chiamiamola di servizio di Marco che dice nelle slide comunque a me il link ai file esterni non funzionano sembrano non essere proprio stati messi nel pdf sì Marco adesso quelle che ho messo in anteprima le slide sono le slide pure poi invece questa sera io assieme alle slide metto anche i pdf per cui devi riscaricare tutto dal bottone file e allora lì poi vedrai che quando clicchi sul sul bottone ti apri il pdf o comunque se no il pdf ce l'hai e lo vai a vedere insomma ecco adesso chiaramente quello che avevo messo lì erano le slide pure semplici e non tutti gli altri file poi Mauro dice queste cose che ero dicendo sono a pagamento giusto giusto in parte perché sono in gran parte gratuite e alcune a pagamento poi lo dirò alla fine ok adesso allora passiamo all'altro seminario siamo abbastanza in orario sono le 16 e 6 che riguarda la gestione grafica di un rilievo topografico tastare qui io vedete ho diviso il seminario in due parti uno la prima riguarda come farlo manualmente cioè come generare manualmente dei nuovi punti da CAD e chiaramente non è semplicissimo bisogna tornare un po' diciamo a scuola perché bisogna tornare a ricordarsi cos'è il seno il coseno la tangente eccetera e l'azimuth e la correzione angolare eccetera eccetera però si può fare poi invece vi ho messo una soluzione software con i top geometri adesso io qui guardate siccome so che poi di matematica trigonometria molti non non è che siano così proprio entusiasti di parlarne magari lascerei dopo la parte manuale qui ho messo come va fatto possiamo anche leggere questa prima riga cioè qui ho scritto che l'import nel reo di partenza di nuovi punti generati graficamente da CAD avviene tramite opportuni calcoli che trasformano le coordinate cartesiane definite sul disegno perché sul disegno io ho coordinate cartesiane devo trasformarle a ritroso nelle corrispondenti osservazioni riferite alla strumentazione utilizzata che sia essa stazione totale o GPS e allora qui poi ho messo tutti i vari passaggi bisogna calcolare la correzione angolare qui ho messo come si fa vi ho messo le formule su Excel il disegnetto anche dello schemino e quindi insomma qui se uno sempre ha buona volontà e passione perché si vuole sia la buona volontà e sia soprattutto la passione può fare tutte queste cose che vedremo è su cui solo può fare anche manualmente però io direi di vedere prima la soluzione software poi magari se avanza tempo torniamo su questa allora la soluzione software è questa qui diciamo ecco io vedete questo è il software geocat questa è la versione nuova per chi è già utente la 6 che sarà scaricabile da stasera domani mattina al massimo e questo è il CAD adesso geocat ha un CAD integrato per chi lo conosce già è GSTAR CAD che è in pratica quello che viene chiamato un clone di AutoCAD nel senso che fa le stesse cose di AutoCAD con la stessa sintassi dei comandi con la stessa operatività eccetera solo che costa 10-20 volte meno ecco questo è ma in realtà adesso questo GSTAR CAD qui non è neanche da acquistare a parte fa parte di Geocat quindi uno che ha Geocat ce l'ha e vedete qui c'è una toolbar che si chiama Geocat con tutta una serie di comandi per la topografia ma poi questo qui ha vedete gli stessi comandi di un CAD le quotature le edit finestre formato strumenti eccetera cioè quindi adesso è limitato e attenzione nel senso che gli abbiamo tolto la parte dei solidi 3D gli abbiamo tolto i linguaggi di programmazione lisp gli abbiamo tolto il visual basic per application gli abbiamo tolto voglio dire altre cose adesso non mi viene neanche in mente più di tanto ma insomma tutte cose che in realtà ecco sì il caricamento di applicativi perché questo qui l'applicativo è quello di Geocat e non ti permette di caricare se hai un applicativo fatto in un'altra software house qui non lo carichi ecco mentre nel GistarCAD quello full lo carichi ecco ma diciamo che però per un geometra che deve usarlo per topografia questo è come avere l'autocad questo è quello che va detto assolutamente vedete io qui ho tutta questa mia bella toolbar e se l'ho a schermo intero siccome qui devo far vedere il passaggio da parte analitica a parte grafica devo metterlo su metà schermo e qui su metà schermo devo poi aprire i vari menu in questa maniera qui ecco ma non è che sia questa la modalità è solo che devo avere lo schermo cioè io ho poi uno schermo gigantesco per cui i nostri problemi qua per i webinar devo usare uno schermo molto più limitato allora qui adesso vedete cosa faccio io apro un rilievo apro un rilievo e adesso qui andiamo un po' a rimpicciolirlo perché qui lo spazio altrimenti è sempre pochino andiamo a rimpicciolirlo andiamo adesso questo qui vedete beh qui non so li dico tieniti buone queste dimensioni qua così non me le cambia più questo è un rilievo GPS perché vedete qui poi geocat ha varie tabelle quella questa qui gialla contiene da parte GPS questa azzura contiene da parte stazione totale qui volendo potremmo anche vederlo su Google Earth perché tanto per capire questa era una riconfinazione che ho svolto io con un collega qui di zona andiamo a vederlo qui lui apre Google Earth da Bassano andiamo a finire a Marostica e questo qui era il rilievo era un confine la zona del confine è proprio questa qui questa linea più o meno magenta vedete qui eravamo eravamo belli tosti in collina quindi pendenze belle e sotto un bosco per cui per dire se vedrete tutta questa zona qui era in mezzo del bosco qui con il GPS non si prendeva qui neanche qui invece eravamo sul prato qui si prendeva e poi come sapranno chi fa riconfinazione vedete che siamo andati un po' in giro per le contrade perché poi per far l'inquadramento abbiamo dovuto prendere dei punti inquadramento su fabbricati impianto e non è che se ne trovano proprio tantissimi quindi abbiamo dovuto un po' circolare questo è il rilievo e quindi adesso non fate caso che ci sono punti distanti quelli abbiamo preso con il GPS ovviamente adesso qui vedete io cosa posso fare intanto chiudo il GPS perché intanto ci concentriamo sulla parte celerimetrica vado a fare disegno CAD potrei anche fare il calcolo andiamo sul disegno CAD ecco qui lui mi chiede già avete una serie di informazioni al testa testi al testa simboli ma ci ritorniamo adesso quando siamo sul CAD mi dice guarda che c'è già vuoi sopra scrivere dico di sì e adesso vediamo che allora lui me lo va a aprire sul CAD si mette un pochino però alla fine lo fa ecco questo è il disegno del rilievo adesso qui uno dice ma come mai hai tutti questi testi così enormi ingranditi ecco adesso ve lo spiego ve lo spiego perché in realtà vedete se io vado a ingrandire vedete che i testi in realtà non sono grandi sono di dimensioni che mi vanno bene a me e man mano che rimpicciolisco o ingrandisco vedete loro si avvicinano o si allontanano al punto ma rimangono sempre delle stesse dimensioni e qui vedete importante una cosa che mi preme far vedere fin da subito è che se io vado sopra il nome o sopra la crocettina del punto vedo i dati di quel punto vedo il nome adesso io non riesco ad andare giù col mouse se no perdo il fumetto vedo la stazione che è stato battuto vedo la quota vedo la descrizione eccetera quindi vedo tutte le informazioni di questo punto ma tornando sulle dimensioni qui vedete c'è una c'è una finestra di preferenze che vedete cosa mi dice mi dice qua sopra mi dice formato e scala stampa cioè io qui posso dire guarda che come ho detto adesso guarda che questo rilievo qui alla fine della fiera io voglio plotarlo su una zero mi dice che la scala ottimale cioè la scala per cui questo rilievo qui ci stia dentro su una zero è 1531 ma io voglio invece plotarlo in scala 1.000 e allora lui mi dice allora se tu vuoi questo formato questa scala dimmi che dimensioni vuoi avere i testi l'offset quindi la distanza del nome del punto e i simboli in decimi di millimetro qui se io dico 10 dico guarda voglio questi testi l'offset e i simboli alti un millimetro ecco questo è per andare in stampa perché poi alla fine in tanti casi bisogna anche stamparlo il disegno adesso un po' meno perché viaggia tranquillamente su file e quindi già meno ma insomma poi in certi casi bisogna stamparlo vedete se io qui qui c'è questa questa opzione dice dimensioni fisse in base al formato e scala di stampa se io clicco qui gli dico al programma guarda tu ecco che adesso qui non cambiano mai più qua cioè queste qui rimangono fisse perché queste qui sono le dimensioni tali per cui verranno fuori alti un millimetro una volta stampato su una zero se invece tiro via questo allora vale questa questo cursorino qua che mi dice che dimensioni vuole avere che ho messo 13 potrei mettere più piccolo potrei mettere più grande 13 mi va bene perché così non mi disturbo più di tanto tanto vuole dire avete capito che io qui posso rimpicciolire e ingrandire quando ingrandisco non è che vedo sempre la stessa altezza testi e la stessa vicinanza del testo del punto questo è un po' una cosa che può essere interessante so per esempio se andiamo qui dove ci sono tanti punti avvicinati c'è un'altra cosa interessante qui nelle utilità posso dire disattiva non perché qui dico io qui si adesso ho dei punti che sono uno sopra l'altro qui pur avendo qua il fumetto ma divento scemo io qua a capire qual è un punto qual è quell'altro allora cosa posso fare posso addirittura dire disattiva nomi quindi io disattivo i nomi ma tanto poi se vado questi qua che sono due vicini se vado su questo so che è il 1020 se vado su questo so che è il 1023 quindi questa è una cosa sicuramente utile non so se ci sono commenti o se Sergio Corrado volete farli voi commenti perché va bene insomma no no Gianni te l'avevo già detto è assolutamente utile ma anche per queste cose per un programma topografico sì ma anche per queste cose qua me le avete suggerite voi poi c'è stato anche un collega due colleghi anzi uno in provincia di Roma e uno in provincia di Avellino che mi hanno veramente dato una serie di suggerimenti adesso non ho potuto svilupparli tutti per questioni di tempo ma poi li riprenderemo in autunno e quindi faremo anche molte altre cose ecco altra cosa carina è trovare un punto io dico adesso vabbè io qua vedete ho una marea di punti adesso fatalità a me mi interesserebbe trovare qua il 1700 lo vedo lì con la coda dell'occhio quindi dico vabbè proviamo a dire trovami il 1700 e vedete che lui cosa fa prende il 1700 e mi porta tutto il rilievo centrato sulla schermata con il 1700 e mi fa vedere il cerchiolino e quindi lì vedo che c'è trovo il 1700 in maniera molto molto rapida Gianni c'è una domanda di un collega diceva penso di sì però volevo che lo dicessi tu che lo usi di più lo stai testando diceva se puoi cambiare lo stile dei punti ritengo di sì basta andare in AutoCAD e lo cambi ah sì sì qui vai su menu di AutoCAD vai stile punto adesso qui bisognerebbe sempre andare qua formato stile punto vedi cambi lo stile cioè questo come dicevo è come è un AutoCAD sostanzialmente ha delle limitazioni che sono quelle principalmente che vi accennavo prima ma che poi guarda io sinceramente almeno a livello di geometri poi magari se uno fa edilizia può anche darsi che gli servano certe cose che qui mancano ma se uno fa topografia qui fa tutto ma credo anche se anche fa edilizia perché poi voglio dire quello che è stato tolto qui sono cose effettivamente poco usate se non so cosa dici te Sergio Corrado ecco perché non so il list lo usi ecco forse caricare applicativi di terze parti magari sì ecco dopo cosa vuoi bene o male credo che un CAD comunque ormai ce l'abbiano più o meno tutti quindi però insomma ecco sì stile punti stile quote tutta quella parte lì c'è tutte le parti di base diciamo ci sono ecco quindi non vedo problemi su questo allora detto questo cominciamo a fare un po' di operazioni adesso topografiche no qui eravamo sulla zona con due stazioni fatte con stazione totale questo era un rudere battuto di un fabbricato e non so adesso qui cominciamo a dire non so io adesso voglio crearmi dei punti aggiuntivi no adesso faccio cose un po' così a caso dopo ognuno di voi sa quello che deve fare e qui vedete adesso qui ho dovuto aprire sotto menu perché siamo stretti con lo schermo ho questo bottone punti ts mi appare questa mascherina qua e lui mi dice qui mi riporta sulla tendina le tre stazioni che avevamo fatto in questo lavoro e adesso lui mi dice dammi un punto dimmi dove vuoi metterlo chiaramente devo dargli il nome io che sono pigro cosa faccio vado sull'accento clicco sull'accento e cosa fa prende il nome di quel punto e gli aggiunge 1 e quindi scrive 101 quindi ho fatto la fatica in meno di dover scriverlo io adesso vi dico benissimo il 101 lo voglio mettere qui da qualche parte però voi capite che o io il punto lo metto su una linea e allora lì o lo metto sopra un altro punto ma diciamo lo metto sul punto medio di questa linea allora lì il CAD rileva anche la quota perché lui questa linea va da un punto all'altro lui per interpolazione rileva la quota se io il punto lo metto qua in mezzo chiaramente qui lo metto nel vuoto per lui lì è quota 0 capito allora qui vedete ci sono due possibilità se mi interessa dargli anche la quota perché poi non sempre interessa per cui potrei anche fregarmene ma ho visto che a molti interessa avere anche le quote qui potrei o dire forza quota oppure addirittura facciamo prima la media potrei dirgli guarda io voglio che il punto me lo metti planimetricamente qui e viene fuori sta crocettina grigetta poi vedete che lui mi scrive qua su questo questo testo mi scrive selezionare in sequenza i punti per il calcolo della quota invio cosa vuol dire questo vuol dire che la quota che voglio attribuire al punto nuovo al 101 la voglio mediare tra il 37 lui mette la quota al 37 però dico guarda me la devi mediare anche col 30 che è quella lì col 29 che è questa è sempre la media man mano che vado avanti e anche col 28 per cui io adesso tiro via lo spunto su media adesso il punto lui l'ha inserito vedete che qui mi è apparso istantaneamente qui io ho preferito dargli un colore diverso perché allora vedo esattamente quello che sto facendo se no poi dopo quando comincio a fare tante di queste operazioni non capisco più niente mentre qui vedo che il 101 adesso lui me l'ha aggiunto e qui se faccio il calcolo locale no e adesso questa è la tabellina del calcolo vado giù in fondo vedete che la quota di questo punto è esattamente meno 3,422 come li ho imposto io mediante la media oppure dicevo potrei invece dire forza quota adesso vado avanti qui adesso lui non si è fermato adesso lui mi propone il 102 vedete vado qua e dico questo qui guarda so io che deve essere a meno 4 meno 4 rispetto allo 0 della base quindi non guardate sti meno qua come se fossimo a livello del mare quindi qua dico non so metto questa quota qui lo piazzo qui lui mi inserisce 102 vado a rifare vado a rifare il calcolo chiaramente lui adesso me lo mette qua in fondo sempre e vedete che questo qui è meno 4,872 quindi qui io importo i punti anche con la quota bene questo non so adesso Sergio Corrado se può essere interessante o meno ma vedo qui che il mio collega qui con cui collaboro ritiene che lo sia per cui non so sì sì interessante cosa dici Corrado? no no ci vuole quella cosa qua ecco adesso naturalmente non sto qui più adesso tiro via forza quota per cui sti punti qua sul 103 andrà dentro a quota 0 ma non mi interessa niente che tanto avete capito è il 103 benissimo adesso potrei dire potrei dire anche questi tre punti qua in realtà oppure non so il 101 il 102 li voglio anche ribattere voglio ribatterli dalla 200 per esempio quindi cosa faccio qui vado qua gli dico guarda 200 qui vado qui e gli scrivo allora 101 lì col 101 reimportalo anche sulla stazione e lo mette anche qui no stessa cosa vado a fare con il 102 e allora lui me lo riporta anche quello vedete che qui l'aggiornamento è istantaneo quello che faccio dal CAD viene automaticamente riflesso anche nel programma di topografia e a questo punto qui chiudo qui per dire no adesso una cosa interessante che me l'ha suggerita adesso non mi ricordo più se è il collega di Guidonia o se è il collega di Avellino ma insomma uno dei due visualizza visure cioè adesso siccome io il 101 se io vedete clicco qui lui mi dice che il 101 è battuto da queste due stazioni vedete 102 lo stesso mentre il 103 è battuto solo dalla 100 questo credo sia molto interessante perché hai sempre la percezione di quello che hai fatto negli originali e anche di quello che stai aggiungendo qui addirittura se invece clicco visualizza stazioni qui addirittura vedo clicco la 100 e vedo tutti i punti che batte la 100 oppure tutti i punti che batte la 200 e questo è effettivamente un altro vantaggio che credo possa essere interessante altra cosa ovviamente adesso io qua dico vabbè però qui io devo prendere punti anche più in qua e qui mi serve lanciarmi un'altra stazione allora vado qui dico stazioni però questo era punti TS stazioni TS lui mi dice va bene dimmi la stazione indietro qui lascio stare la 100 dimmi la stazione avanti qui li metto 800 tanto per che sia un numero nuovo e adesso l'800 per dire la piazzo qui qui vedete cosa è successo è successo che lui mi ha messo la battuta in avanti 100 800 e poi mi ha aggiunto l'800 con la battuta indietro alla 100 vedete che qui lui cosa fa come convenzione poi questo si può anche variare lui fissa l'orienta siccome questa è la stazione nuova che ho aggiunto da CAD lui la orienta sulla stazione lanciante mette lo 0 sulla stazione lanciante si potrebbe anche dire mettimela su un punto mettimela su mettimela allo stesso orientamento che aveva la prima stazione ecco si può anche fare quello ma diciamo ecco normalmente Corrado tu cosa fai in questi casi qua quando lanci stazioni fuori la riorienti su quella lanciante o no la metti a casaccio ma si poi dipende dalle volte insomma si si tu Sergio anche mi pare no si si anche io a casaccio ma alcune volte però anche anche nel mio programma se voglio posso riorientare indietro dipende perché mi chiede il punto orientamento la stazione se gli do un punto a casaccio cioè gli dico un punto nuovo e me lo orienta a casaccio se invece gli dico che ribatto un punto già battuto allora orienta su quello o se gli dico ribatto la stazione come prima battuta mi orienta sulla stazione ok però ecco è indifferente visto che ormai per il calcolo è indifferente diciamo che ho usato un po' tutti i sistemi invece una volta una volta bisognava un po' si si ci avevano insegnato ma quando c'era il 306 soprattutto effettivamente bisognava fare l'orientamento sulla stazione ma sai si facevano anche i calcoli a mano era più semplice si si è tutto automatizzato allora va bene adesso ho creato l'800 chiaramente mi viene in voglia adesso di andare a fissare già i punti dell'800 qui vedete che allora c'è questo bottone carica punti sulla nuova stazione cioè se io clicco qui lui torna su quella schermatina delle stazioni mi mette l'800 e mi dice dimmi che punti vuoi creare qui metto che voglio partire dall'801 e lo voglio mettere non so qua in cima l'802 l'803 e vedete che allora lui qua me li ha aggiunti qui sotto la 800 sempre colorandomi di giallo tutto quello che aggiungo ma poi potrei anche avere l'esigenza di spostare adesso queste robe qua per cui non so se sposto semplicemente qui c'è sposto a punti se sposto solo il 100 qui il punto posso beccarlo anche dal testo che sono sicuro che non sbaglio specialmente quando ho punti vicini se prendo solo il 102 e lo porto qua vedete che lui qui mi fa vedere in violetto in questo caso che mi ha cambiato le letture a questo punto mi dice qua che il 102 era l'avevi su un posto me l'hai spostato e quindi qui sappi che adesso le misure sono queste qui naturalmente poi se continuo a spostare quello lì lui cambia i numeretti ma rimane rimane violetto ecco se invece sposto una stazione beh dopo qui sarebbe anche da dire che se vado anche qua ecco potrei anche qua per esempio dire reimportare i punti sull'800 per dire no adesso lasciamo perdere poi anche qua vedete se vado qua le stazioni vedo i punti i punti che ho caricato sull'800 ma se volessi potrei anche dire allora non so punti TS non l'ho fatto prima lo faccio adesso dico sull'800 vai a ribattermi anche il 101 102 allora dico 101 reimportalo su questa stazione vedete lui ha aggiunto il 101 e poi anche il 102 quindi vedete posso fare anche tutte queste iperdeterminazioni qua e allora ovviamente poi dopo qua ho sempre la percezione che cliccando sull'800 vedo cosa ho battuto dall'800 ecco ma potrei fare una roba ancora più drastica perché potrei dire adesso sposto addirittura la stazione cioè sposto l'800 perché in realtà volevo metterla qua e allora vedete che lui tutti i punti dell'800 me li ha cambiati e mi ha cambiato anche vedete il 102 perché l'800 poteva anche il 102 era cambiato da prima sto dicendo una stupidaggine oppure adesso cambio oppure adesso sposto l'accento e dico l'accento invece la voglio da qui in fondo la voglio portare questa qua in cima e allora capite che lui qua adesso tutte le battute che ha fatto dall'accento me le ha cambiate tutte adesso qui ci rimane un po' stoffato vedete lui abbia dovuto prendere questo è rimasto un po' nel dimenticatoio abbia dovuto prendere questa linea e portarla qui quindi adesso questo poi lo faremo ecco e poi dovrebbe togliere questa qui perché adesso il collegamento è quello ma non ha grande importanza perché guardate se adesso io salvo questo disegno qui in in dvg quindi lo salvo in dvg in modo che adesso qui da geocut lo rigenero di nuovo come lui rigenera un dxf non trova non trova non trova che c'è il dxf già aperto perché l'abbiamo salvato in dvg e qui in pratica vediamo che adesso è tutto aggiornato vedete la 100 è finita qui l'800 è finita qui questi sono i punti solito discorso se voglio percepire cosa batte una stazione cosa batte l'altra se voglio percepire un punto da chi è battuto e se questo punto chi è battuto sia dalla 100 sia dalla 200 sia dall'800 e quindi ecco c'è questo diciamo aggiornamento istantaneo questo per quanto riguarda adesso qui ho chiuso tutto va bene non importa per quanto riguarda possiamo anche ricrearlo penso l'ho chiuso il dxf beh allora facciamo così guarda chiudiamolo senza tutti questi affari qua e riapriamolo che così abbiamo meno meno colori e adesso affrontiamo la parte gps allora rifacciamo il disegno questo possiamo anche chiuderlo lo rifacciamo lo rifacciamo questo torna a essere la situazione iniziale ok e adesso parliamo della parte gps qui noi vedete la base gps era la 1000 era comunque in locale perché qui avevamo usato la funzione no che della rete di stazioni permanenti nrtk che ti fissa la base in locale so che molti non fanno questo lasciano la base permanente a 20 km e questo non è sicuramente una buona cosa perché poi si innescono problemi perché vai fuori dal campo topografico ma insomma questo sarebbe un discorso troppo lungo che non è il tema di oggi la base è lì e qui ho vari punti di questi col 1000 sono punti presi col gps adesso guardate facciamo così intanto questo lo mettiamo giù e lasciamo solo la parte gps magari la ingrandiamo anche un po e adesso vado a fare una linea tanto per rendervi conto vado al 1025 al 400 e poi al 1039 perché adesso dico vado qui sempre sulla toolbar di geocat gli dico punti gps stavolta no allora la base chiaramente è unica quindi non è che si possa tanto qui di base gps ce n'è una solo per cui quella è e quella mi tengo mi fisso un punto che chiamo 8001 tanto per non andare sopra gli altri punti ecco qui discorso la quota sopra il solito discorso e dico vai sul punto medio di questa congiungente qua lui ha messo 8001 se andiamo qua in fondo perché chiaramente lo carica in fondo vedete che in azurino mi ha messo il 8001 con la baseline qui delta xyz dell'8001 e qui potrei andare avanti all'infinito qua lo metto anche su sto punto medio qua ma poi ne potrei mettere anche fuori e avanti capire ecco una roba che mi sono dimenticato tutto quello glu importa gli da questa è una colonna codice che geocat usa per vari scopi in questo caso gli scrive ic vuol dire importato dal cad perché poi questi colori chiaramente li posso cancellare spariscono ma so sempre che quei punti li ho importati da cad questo per quanto riguarda i punti ma io potrei voler spostare anche la base perché capita per esempio se qualcuno ha seguito i nostri corsi cioè pregeo per esempio se tu la base gliela metti gliela metti troppo vicina a un punto come per esempio è qui e poi fatalità questo punto qui glielo metti come prima riga due in pregeo se è troppo vicino ti vengono fuori gli sqm spaventosi no perché lui cosa fa fa l'orientamento cioè lui trasforma il rilevo gps come se fosse un rilevo accelerimetrico e prende il primo punto che tu gli hai messo sulle righe 2 e prende quello come orientamento e allora lì ti sballa su tutto vengono fuori errori eccetera e quindi c'è in tanti casi il problema di spostare alla base vedete adesso lui qua non mi chiede niente sulla mascherina mi dice semplicemente mettila dove vuoi e io qui vado a metterla sul punto medio di questa congiungente qua adesso se guardate qui vedete che qui si sono colorate di viola tutte le baseline perché adesso lui ha la base l'ha spostata l'ha spostata e quindi è chiaro che tutte le baseline sono tutte cambiate adesso capite per cui adesso io qui se vado a rifare anche qua adesso chiudiamo pure questo questo ce lo salviamo come dvg che così ci rimane lì e andiamo a ricreare il dxf andiamo a ricreare il dxf per vedere se tutto quello che abbiamo fatto è rispettato o meno andiamo qua ecco qui adesso non spaventatevi del groviglio il groviglio c'è perché lui i testi li fa sempre grandi uguali quindi quando io zoomo i testi sono grandi così e li vedo bene ma se io ho un rilievo come questo e lo lascio tutto concentrato chiaramente quell'altezza lì e fa questo groviglio qua ma è solo un effetto ottico adesso vedete che qui noi se andiamo sempre a tracciare una linea da qui a qui a qui vedete che effettivamente questo è sul punto medio ma potrei capirlo perché se vado con lo snap se dico linea per dire vedete qui mi da sia lo snap centro punto centrale sia lo snap nodo vuol dire che effettivamente quel punto è in centro anche qui vedete quindi lui ha spostato la base e i punti gps perché poi c'è anche il discorso degli allineamenti ovviamente perché io potrei effettivamente crearmi punti anche per gli allineamenti a squadri allora qui su geocat chiaramente c'è anche la tabella allineamenti qui ne avevo già uno che era che era in fondo qua qui eravamo su una su un fabbricato qui riusciamo a prendere con gps solo in questi due punti perché c'era c'era il fabbricato che oscurava abbiamo preso vedete uno spigolo il 2001 l'abbiamo preso per trilaterazione poi il fabbricato era in squadra abbiamo detto 2001 OFS4 distanza 0 squadra 8 metri questo qui era per trovare questo fabbricato qui invece adesso cerchiamo di andare a inserirne di nuovi per esempio potrei dire potrei dire se rimpicciolisco un po' potrei dire ad esempio qui ecco andiamo sempre su geocat voglio creare un allineamento qui sono due allineamenti ovviamente quelli a squadri e quelli per intersezione facciamole uno a squadro e allora lui mi dice cliccami il punto di origine per esempio metto 200 vedete che lui scrive 200 cliccami poi voglio andare qua sul 1039 e il punto lo voglio chiamare 111 che mi pare di non avere 111 dico me lo piassi qui così vedete lui mi fa lo squadro e mi mette la riga dell'allineamento ok adesso potrei anche dire tanto per farvi vedere quello che riuscite a fare qui adesso con questa roba qua potrei anche dire guarda io quella 111 lì lo voglio addirittura iperdeterminare perché lo voglio caricare anche sull'accento come se l'avessi battuto anche celerimetricamente per cui scrivo 111 reimporta appunto questa azione e me lo sono inserito anche sull'accento adesso potrei addirittura dire adesso sto facendo roba a casaccio ma spero che voi capiate le potenzialità e poi saprete come usarle nei vostri casi effettivi adesso gli ho detto fammi un allineamento per intersezione e qui gli dico fammi origine sul 400 e orientamento proprio sul 111 e mi crei il punto 112 qui allora lui qui vedete scritto le famose due righe no per l'intersezione da 111 a 400 distanza questa 400 a 111 distanza questa vogliamo controllare se è tutto corretto allora intanto andiamo qui a fare la quota attualità andiamo a vedere quello di prima no da 200 al piede della perpendicolare vedete che è 47863 47863 lo squadro da qui aspetta che non prenda la quota da qui a qui è 11,997 su quello per trilaterazione andiamo sempre a fare la quota da qui al punto abbiamo 32,94 e da qui dall'orientamento al 112 abbiamo 26,397 e questo tanto per farvi capire insomma la correttezza perché uno dice ah stucia vede tutto ma chi ci garantisce che poi i calcoli vengono fatti giusti ecco perché questo dubbio ce l'ho per primo io quindi figurarsi se non lo avete voi ecco qui adesso quello che è interessante capire è che anche quali spostamenti vengono gestiti in maniera in maniera nidificata no perché se io dico sposta punti no se spunto il cento se sposto il 112 qui allora vedete che lui mi ha cambiato le due distanze perché se io questo questa era origine orientamento questa è l'intersezione mi ha cambiato le due distanze in violetto ma se sposto il 111 che è figlio dell'allineamento questo qui lungo e anche della stazione 100 no e lo sposto qui così nel disegno si riaggiorna tutto e qui mi dice guarda che ti ho cambiato anche distanza e squadro e guarda che ti ho cambiato anche le letture dalla stazione 100 ecco quindi qui devo fare appunto poi complimenti allo sviluppatore che tra l'altro è qui che ci ascolta che poi ti dicevo Sergio è l'autore di AdCad che è quel famoso diciamo CAD tridimensionale che gira su un ambiente auto e poi lì faremo anche un corso in autunno e quindi diciamo che questa è la versatilità che abbiamo cercato di dare non so se ci sono commenti domande se avete commenti voi su questa roba qui nessuno che parla ah beh no no Gianni io faccio i complimenti nel senso avevo già visto qualcosa non tutto perché giustamente tu l'hai sviluppato insieme diciamo allo sviluppatore effettivamente era un pochettino la parte che mancava a Geocat ecco adesso è un bel programma di topografia sì soprattutto al di là adesso dell'applicativo che appunto abbiamo cercato direndolo molto versatile molto immediato vedi che si aggiorna tutto su Geocat anche con questi colori che ti danno sempre l'idea di quello che stai facendo ecco perché poi è importante anche quello poi già ecco il card integrato credo che sia una bella cosa perché sai prima bisognava avere l'autocab bisognava avere i cloni di autocab bisognava avere poi bisognava caricare l'applicativo poi ogni volta che facevamo una modifica allora bisognava ricaricare tutti gli applicativi dovevamo noi qui gestire perché noi avevamo prima dieci versioni di Autocad dal 2010 in poi sette versioni di GistarCAD ai tempi prima avevamo ancora altri cloni ZVCAD eccetera per cui ecco quindi credo che quello è assolutamente utile e poi effettivamente anche secondo me questa gestione dei punti con i colori delle tabelle che cambiano è validissimo perché ti consente quando ci hai preso un attimo la mano che hai capito come funziona hai subito il colpo d'occhio riesci a capire quello che hai toccato cioè quindi ti rendi conto cosa hai modificato rispetto al libretto che hai rilevato in campagna quindi è veramente utile sì ecco poi qui c'è Gaetano il secondo normativo del preseo normativo del preseo ecco adesso io una volta ho modificato il rilievo poi qui ho il libretto preseo che mi viene compilato direttamente con la situazione aggiornata e poi qui c'è poi la possibilità vedi di andare a trasferirlo negli archivi di preseo salvare come fa il dat eccetera quindi io qui poi se voglio avere il preseo aggiornato ce l'ho immediatamente ecco una cosa che abbiamo visto mi sembra sia poi il discorso dei contorni perché qui su Geoca c'è anche una tabella contorni e dividenti qui avevamo avevamo già un contorno che era l'otto grande ma potrei per esempio andare a dirgli crea un contorno nuovo per esempio il fabbricato che c'era qui la descrizione lo chiamo fab perché qui ho poco spazio su Geoca giocare un codice ma semplicemente è una sigla di tre caratteri dico che voglio creare un contorno che vedete lui mi dice qui voi li tratti nero continuo nero punteggiato eccetera io adesso parto tranquillamente con il nero continuo ma poi potrei anche dire passa al rosso continuo adesso sto facendo roba che non ha neanche tanto senso e poi chiudi e vedete che lui qui tira su il contorno e poi questo me lo troverai allora sul libretto pregeo come riga 7 quindi ecco qui è sempre tutto aggiornato ovviamente in maniera istantanea adesso vedete qui queste sono righe 7 con la capo al cambio di colore di pregeo eccetera ecco altra cosa interessante anche qua magari chiudiamo un po' perché adesso io quando comincio a vedere troppe tabelle mi piace poco diciamo di non salvo niente perché poi voglio mantenermi il rilievo bello integro che è quello del lavoro effettivo per cui non salvo e lo richiamo eccolo qua ok disegno CAD adesso vediamo anche il discorso della divisione di aree per cui adesso questo magari è un'esigenza che si ha meno però può esserci e qui per esempio io potrei dire adesso qui se si sveglia fuori si mette un pochettino potrei dire io ho questo questo lotto qui no quello in nero qui che vorrei in qualche maniera dividerlo perché questa è un'area che devo dividere in sotto in sotto aree no qui vedete adesso sempre nelle utilità perché qui i menu purtroppo sono condensati c'è questa opzione attiva polirine che mi fa diventare tutte le mie linee che sono spessettate le fa diventare delle polirine questo mi permette di andare su questo menu divisione di aree e dire adesso io qui voglio dividere quest'area partendo per esempio dalla 200 che è il vertice traccio una dividente a casaccio bella lunga in modo che possa tagliare sempre l'area clicco su un punto qua sopra mi dice guarda che l'area complessiva fatalità è 6.000 metri virgola 99 quella sopra perché ho cliccato sopra che hai staccato è 3.500 e dico staccane esattamente 3.000 e gli dico ruota e lui mi ha staccato i 3.000 metri qua so poi potrei andare avanti adesso potrei per esempio se volessi fare una parallela cioè staccare a metà con una parallela a questa linea c'è l'utilità di mettere di ruotare gli assi per cui dico ruotami gli assi e mettermeli combaccianti con questa linea qua vedete che adesso il cursore è giusto su quella su quella linea poi posso fissare F8 l'ortogonalità e poi posso rifare l'operazione per cui dico divisione a questo punto li dico traccio vedete qui con l'F8 ho tracciato una linea parallela a quella sotto tocco qui sopra lui mi dice guarda ne avrei staccati solo 1000 io gli dico 1500 in questo caso gli dico parallela e lui mi stacca i 1500 metri poi chiaramente i punti me li importo eccetera eccetera ultima cosa poi abbiamo finito perché sono già le 5 ormai la parte di altimetria Geoca fa anche una parte di altimetria non è un programma di progettazione stradale o di progettazione di cave o cose del genere è un programma che però per uno che deve fare un piano quotato a curve di livello profili sezioni lo fa tranquillamente quindi qui vedete vado qua curve di livello lui mi dice che c'è già e mi crea sempre sul CAD interno mi crea il disegno del piano quotato a curve di livello questo è un rilievo molto molto grande fatto qua sul montagno da noi questo è il piano quotato naturalmente qui poi potrei mettere in off i vari layer perché qui se vado qua potrei adesso i layer ce li ho qui potrei mettere in off le curve le quote il cartiglio se tiro via le curve vedere solo per dire tirar via anche le curve di discontinuità tirar via anche i nomi tirar via le quote tirar via i simboli vedere i triangoli però adesso perché poi il modello matematico è dato ovviamente dai triangoli adesso non ce ne frega niente mettiamo pure tutto e qui adesso potrei dire adesso qui tanto usiamo il caldo tutto schermo potrei per esempio dire adesso io qui voglio estrarmi un profilo no? mi esce questa mascherina qua potrei anche dirgli che voglio un profilo non longitudinale ma naturale quello che è naturale vuol dire che io faccio un tracciasso io lo faccio a caso poi naturalmente uno qui va sui punti che gli interessano no? e ti ho fatto sta spezzata gli dico chiudi e lui mi crea il profilo di quella linea lì naturalmente qui le quote cioè la scala altezza è sempre molto maggiore 5 volte più grande di quella delle lunghesse per capire e qui trovo anche tutti i dati analizi lui qua mi ha tracciato una praticamente sezione chiamiamola così ogni volta che il terreno cambiava dipendenza secondo quel mio tracciato e questo è un profilo naturale se ne voglio uno longitudinale invece faccio la stessa roba gli dico profilo lascio stare longitudinale apro questa parte qui e allora qui lui mi dice se vuoi un profilo di questo tipo devi dirmi anche ogni quanti metri vuoi le sezioni dico ogni 50 metri quanto vuoi andare a destra e a sinistra non 29 ma 20 dell'asse che vuoi fare che tracerai e poi allora qui vedete io vado qua traccio una linea tranquilla da qua a qua faccio chiudi e lui mi fa in sto caso vedete il profilo poi mi ha fatto anche già le sezioni ma andiamo a vedere il profilo vedete qui ogni 50 metri tranne poi l'ultima la chiusura sempre con i dati e poi mi ha sviluppato anche le sezioni trasversali secondo quel mio tracciato lì questa è un po' la parte di altimetria sempre gestita da CAD per cui insomma direi che abbiamo visto un po' tutto poi qui ci saranno varie altre cose che ho forse sorbolato qui la mappa eccetera ecco l'export delle aree ma insomma sono cose che non hanno grande importanza per cui direi di non perdere tempo se vi è chiaro potremmo tornare qui velocemente sulla parte manuale invece perché ditemi è perché qui sulla parte manuale qui c'è come calcolare la correzione angolare perché chiaramente se io devo importarmi un punto dal CAD qui guardate leggiamo quello che ho scritto qua no leggiamo quello che ho scritto qua l'ho scritto forse qua ecco qui leggiamo questa slide qui per cui ho messo i passaggi no cosa bisogna fare qua bisogna abbiamo detto io ho un rilievo lo calcolo naturalmente il calcolo posso usare un software topografico qualsiasi posso usare anche lo stesso pregeo visto che è gratuito nel qual caso sapete che però se usate pregeo va azzerata la est media va azzerata la quota media sul livello del mare e non vanno messe le righe 8 con le coordinate di pf perché se date queste informazioni qua pregeo fa l'inquadramento cartografico e quindi distorce un po' la realtà perché la inquadra sulla cartografia dei pf e quindi lì sballate tutto ecco però se avete queste avvertenze qui volete farlo con pregeo il disegno CAD anche potete farlo con pregeo perché pregeo fa anche il DXF e quindi poi cosa dovete fare nel disegno CAD create i punti dei punti avete le coordinate cartesiane e poi dovete trasformare le coordinate cartesiane dei punti del CAD nelle letture o stazione totale o GPS del vostro rilievo allora le prime tre operazioni le fate col CAD e con pregeo la quarta ve la spiego qui qui praticamente se sono punti TS bisogna calcolare la correzione angolare perché perché poi la prima stazione metti che è correttamente alla correzione zero ma poi può essere per esempio il caso che è un rilievo misto GPS TS per cui la stazione ha una correzione perché il nord è quello del GPS quindi qui c'è da fare un po' tutte queste considerazioni qua quindi qua vi ho messo tutti i vari casi correzione angolare di una stazione TS su un punto GPS vi ho messo il file dvg per cui qui vedete vi ho messo lo schemino su file dvg e poi vi ho messo i calcoli da fare su questo su questo foglio excel qui che adesso si apre qui sono andato indietro la preistoria per spiegare anche come passare dall'arco tangente all'asimo perché molti non lo sanno e poi qui vi ho messo proprio tutto vedete questo è questo primo punto correzione angolare di una stazione fatta su un punto GPS orientata su altri due punti GPS qui trovate le coordinate trovate i delta le forme per cui qua se voi mettete le coordinate della stazione 100 le coordinate dei punti di orientamento che avete fissato sul CAD vi troverete il calcolo della correzione con la media eccetera stesso discorso invece per quanto riguarda la correzione angolare di una stazione TS per cui dicevo la prima è orientata come orientata la seconda come dicevamo con Sergio Corrado è orientata a Casaccio e io devo portarmela a essere orientata come la prima per cui devo calcolarmi la correzione che è sto angolo qua cioè di quanto devo ruotare l'orientamento in campagna per portarla sul nord di campagna che è l'orientamento della prima anche qua vedete il disegno il dvg e le formule che sono poi sempre queste qua sotto poi c'è invece cosa più complessa cosa più complessa è invece il discorso beh dopo qui vi ho messo come importare le letture perché una volta che avete calcolato la correzione angolare poi diventa una stupidaggine calcolare le letture per cui qua trovate calcolo di angolo distanza orizzontali da stazione TS a un punto da CAD e poi una volta trovati angolo orizzontale distanza orizzontale come invece se avete anche la quota se avete anche la quota no come trovare distanza inclinata e l'angolo e l'angolo zenitale in pratica no questo ecco per quanto riguarda il la stazione totale per il GBS è molto più complicato perché qui la formula è quella famosa trasformazione euleriana ve la faccio vedere con un'animazione ecco perché adesso guardate lanciamo l'animazione così capiamo bene se io prima avete spostato la 1000 l'ho spostata in altra parte no oppure un punto oppure devo calcolare un punto per GPS dalla mia stazione TS e devo calcolarmelo devo calcolare le baseline a partire dalle coordine topografiche qui vedete la cosa la storia di GPS è questa il GPS ha un sistema cartesiano che è sul centro di massa della terra l'asse Z va sul polo nord l'asse X va nell'intersezione tra il meridiano di Greenwich e l'equatore e l'asse Y è ortogonale agli altri due e questo è il sistema GPS UGS84 noi invece in topografia lavoriamo su un piano e il piano dov'è messo è messo tangente al cosiddetto punto di emanazione del rilievo il punto di emanazione del rilievo è la base GPS che ho fatto per questo dico che chi lascia la base permanente a 30 km fa secondo me una cosa che non va assolutamente bene perché a 30 km vai fuori dal campo topografico che è 15 km però vedo che tanti tranquillamente lasciano la base non so ecco su questo se voi avete un commento perché io mi mandano qua dei lavori gli utenti dei miei programmi e dicono no ma io la base la lascio là perché allora so che è tutto riferito a quella base quindi dopo mi metto insieme tutti i miei rilievi ecco però non è corretto ecco non è corretto secondo me però non so voi fate non credo facciate così anche voi no eh beh no Gianni innanzitutto se diciamo se hai la base dopo i 5 km dovresti comunque avere poi tutti i fattori di covarianza quindi già ti viene anche il libretto poco gestibile e poi ovviamente non è corretto cioè quindi adesso se hai i fattori di covarianza Pregeo lo prevede quindi in teoria puoi lasciarla ecco 30 km sono magari un po' tanto perché vedo che le situazioni permanenti sono abbastanza almeno io parlo della zona che conosco no no beh sì diciamo che non hai quelle distanze lì normalmente diciamo che puoi arrivare a 15-20 km no no 30 ho esagerato in effetti perché anche qui diciamo 15-20 però a 20 ci arrivi non è che non no no ma assolutamente io in effetti non ho mai usato cioè ho sempre usato il primo punto diventa la stazione quindi ho sempre usato il sistema euleriano perché secondo me in topografia locale devi usare quel sistema lì ecco è corretto usarlo e poi molte volte ecco magari alcuni colleghi un po' per praticità un po' perché quando ti vendono le strumentazioni non ti spiegano più di tanto ti danno già una conformazione ti abitui a usare quella e poi ecco vai avanti a usare quella però in effetti mi rendo conto ancora anche recentemente diciamo ho avuto situazioni di confrontarmi con colleghi che magari volevano anche diciamo dei consigli e certe volte si fa quasi anche fatica a farsi dare un file in formato leggibile loro hanno nel loro strumento hanno il loro computer che gli carica che gli hanno fatto vedere che carica quel tipo di strumentazione così e poi non sono più in grado di gestire né le misure né nulla quindi sembra assurdo ma uno fa fatica a farsi dare un libretto delle misure leggibile molte volte ah sì ci sono tutti i problemi là purtroppo va bene andiamo avanti allora qui questo discorso qui quindi il concetto qui è di passare da questo sistema cartesiano che è quello del gps a questo sistema topografico piano che è un piano tangente al punto di emanazione del rio quindi alla base gps che ripeto entro i 15 km del piano topografico si può diciamo approssimare la spese terrestre ad un piano quindi adesso figurativamente come avviene questa trasformazione vedete che qui allora ho il punto p e naturalmente questo angolo qui è la longitudine scusate l'angolo fi è la latitudine qui vedete questa questo asse z in ambito topografico perché non casca cioè questo qui è diciamo ortogonale al punto p al piano adesso qui non sembra dall'immagine sembra sgambo ma in realtà è ortogonale perché non va a finire sul centro della terra va a finire un po' più in qua perché la terra è assimilata ad un elisoide non ad una sfera quindi va a finire un po' più in qua ecco adesso io come faccio a passare da avere le coordinate del punto p nel sistema geocentrico del gps ad averle nel sistema topografico piano allora qui vedete lancio l'animazione bisogna fare una prima rotazione intorno all'asse z per cui io quell'asse lì me lo porto a coincidere qui con il meridiano che passa per il punto p e ho fatto una prima rotazione poi dopo cosa devo fare devo prendere qui l'origine e devo portarmela giusta sotto la mia ortogonale la normale la normale lisoidica viene chiamata questa qui quindi prendo la terna cartesiana e la porto giusta sul piede della normale lisoidica poi dopo cosa devo fare devo ruotare attorno all'asse y perché allora questo asse x qui vedete va a finire giusto sulla mia normale lisoidica quindi l'ho portato a coincidere e ultima operazione è una traslazione per cui porta l'origine esattamente sul punto p quindi trasformo dalle coordinate geocentric gps a coordinate topografiche quello che si fa invece in questo che abbiamo visto oggi per passare da cad a gps è il contrario che basta applicare la formula all'incontrario qui ce l'avete su questo mio file excel qui vedete qui se voi qua mettete dentro le coordinate rispetto allo 0 0 rispetto all'origine che avete nel cad e rilievo questo fate conto che sia un punto che ha x y e quota nel cad qui mettete dentro qui i dati se io cambio qui e scrivo meno 22 punto ecco qui vedete che trovate i delta x delta y delta z del gps quindi trovate effettivamente qui i dati ah no questo non era io gps dati che vedevate prima in pratica sulla tabella gps quindi delta x delta x delta z quindi se volete potete farvi anche questo calcolo qua ripeto poi è chiaro che qui che qui un po' di 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 conoscenze bisogna averle insomma ecco qui io avrei terminato adesso mi rimane un po' la parte meno tecnica che è quella promozionale allora intanto vorrei farvi parlarvi dei corsi attuali che stiamo facendo su corsi geometri corsi geometri è ovviamente questo nostro sito che conoscerete probabilmente in tanti qui vedete che abbiamo una serie di corsi che stanno svolgendosi ve li faccio vedere perché faccio prima sono quattro corsi di super bonus questo qui primo è sui aggiornamenti normativi che mi pare finisca oggi non so se Gregorio può confermare poi ce ne sono due invece uno sull'impianto termico che spiega tutta la parte relativa all'impiantistica termica all'involucro che però finirà a metà luglio uno sulle sanatorie sempre in tema di super bonus anche questo finisce a fine luglio però chiaramente potete vederli sempre registrati poi ce n'è uno interessantissimo che farà un geometra qui del mio collegio di Padova dove lui presenterà i lavori e l'abbiamo spostato a settembre perché vuole finire i lavori e vuole avere anche diciamo concluso la cessione del credito per cui lo faremo a settembre lui metterà giù tutti i passaggi l'ape a priori l'ape posteriori i conteggi i computi eccetera fino ad arrivare alla cessione del credito questo è molto molto interessante poi invece a settembre riprenderemo faremo un bel corso sul drone e questo è un ingegnere qui del Trentino che mi ha sferito proprio Sergio molto esperto di drone in topografia quindi farà anche qui farà sempre un corso basato su rilievi concreti la parte esterna la documenterà con filmati foto eccetera quindi anche questo è un bel corso qui invece faremo sempre in autunno il corso dell'AzScan al modello 3D però qui il 23 giugno facciamo questo seminario noi in realtà avevamo già fatto un seminario in febbraio che ha avuto un successo incredibile con mi pare erano 4.000 partecipanti per cui abbiamo avuto tantissime richieste di rifarlo qui ne facciamo un altro perché nel frattempo poi sono usciti nuovi strumenti di modellazione questo poi è un corso che farà capire come si passa dal laser scanner alla nuvola di punti che genera il laser scanner e al modello 3D del progetto fatto su SketchUp che è il software che noi utilizziamo poi faremo un corso sulla responsabilità versionale del geometra quindi eventuali responsabilità come tutelarsi e poi arriveremo io Sergio e Corrado con questo più loro due che io perché i veri aspetti sono loro due un corso completo di pregio base avanzato è un corso che purtroppo abbiamo dovuto rinviare dovevamo farlo prima poi tra il covid e altre problematiche non siamo riusciti ma adesso è pianificato per l'autunno quindi ve lo consiglio poi invece l'anno prossimo faremo dei corsi di livello un po' più elevato per i topografi quindi fotogrammetria per geometri quindi concetti di fotogrammetria perché adesso sì possiamo usare i droni ma un minimo di basi sui concetti della fotogrammetria bisogna pure averle insomma la poligonale di precisione quindi la poligonale di precisione per lavori dove è richiesta estrema precisione come tunnel gallerie eccetera la teoria degli errori che pochi geometri conoscono perché la scuola non si studiava e poi ma qui andremo sicuramente al 2022 torneremo sempre io Sergio Corrado con dei casi pratici di riconfinazioni la parte pubblicitaria la faccio breve allora per quanto riguarda corsi geometri qui sapete che adesso qui se io esco ecco adesso allora vediamo se riesco a rientrare probabilmente non riesco più a rientrare ma ve la faccio vedere qui dalla slide sapete che noi proponiamo un abbonamento annuo che costa 160 euro per un anno e che vi dà la possibilità di frequentare tutti gli oltre 80 corsi che trovate sul sito questo è importante qui se volete filtrarli anche per categoria qui cliccate questa tendina e potete filtrarli per materia quindi avete solo la materia che vi interessa cosa importante che vi consiglio di fare se cliccate sulla piantina dell'italia qua in alto a destra poi cliccate sulla vostra regione poi sulla vostra provincia troverete tutti quelli tutti i colleghi della vostra provincia che hanno già frequentato i vostri corsi e tanto li riconoscerete perché sono elencati con nome cognome e comune di residenza vi abbiamo chiesto ovviamente il consenso per la privacy e troverete anche i loro commenti su come hanno giudicato i nostri corsi io ci tengo sono molto orgoglioso di questa piantina qui perché credo che se voi andate nella vostra provincia tanto troverete centinaia di geometri noi abbiamo 32.000 geometri italiani iscritti a CorsiGeometry.it quindi troverete centinaia di geometri nella vostra provincia e quindi se conoscete qualcuno potete andare a chiedergli come si è trovato poi c'è Top Geometry perché prima appunto diceva il collega ma è gratuito non è gratuito allora di gratuito ci sono queste cose qua qui c'è la cartografia catastrale ovviamente PF misurate la mappa su volerte eccetera c'è un forum che usiamo spesso noi quindi qua possiamo dibattere una serie di temi vedete qui è diviso in varie sezioni catastro di liscia di confinazioni e qui noi continuamente chi ha un problema per esempio non so questo collega qui aveva un confine da fare ma il confine era stato modificato da un'allustrazione del catastro per cui non sapeva bene come fare gli abbiamo risposto in diversi quindi questo è molto utile perché poi chiaramente è tutto gratuito e quindi insomma potete trovare supporto in quel tipo poi bene il menu risorse il menu risorse è una cosa in cui qua trovate tanta di quella roba che avete veramente da che perdervi via per andare a vedere per esempio non so video news eventi i libri va bene libri in materia di topografia di riconfinazioni ma anche quelli che noi chiamiamo testi sacri che sono una cosa fantastica sono libri storici scritti da topografi da catastali da colleghi tani costa eccetera adesso io qui ne ho minimo un'altri 20 che non ho mai avuto il tempo di pubblicarli però lo farò qui quest'estate che sono più tranquillo potete scaricarvi il pdf queste sono opere che non si trovano più chiaramente in libreria che ormai non si trovano più neanche così dai colleghi perché poi man mano che la gente va in pensione o ci lascia chiaramente i libri dopo i figli prendono uno scatolone e li portano in discarica ecco e noi qui invece abbiamo voluto salvarceli ho avuto tanti colleghi ma ne ho al minimo altri 15 20 da pubblicare che non ho mai fatto quindi avete questa parte qua poi avete documenti documenti sono proprio relazioni perizie ctu ctp fatte da me da sergio da altri colleghi potete scaricarvi se volete fare una relazione per un ctp per una ctu avete un esempio di come farla tutta questa parte qui è ovviamente è ovviamente inclusa e quindi questa parte qua per quanto riguarda quello che abbiamo visto oggi chiaramente qui avete ecco le cartografie qui si intende in pratica mappe di impianto rilievi che sono legate a geoc e core map quindi queste sono a pagamento e o anche le cartografie pubbliche che vedevate sia quelle già elencate sia la possibilità di inserire le vostre poi c'è i software core map e geocat oggi li abbiamo visti molto all'acqua di core map ma neanche visto core map fa una serie di georeferenziazioni per correggere le mappe eccetera per cui diciamo però ecco molti di voi li conoscono quindi c'è core map geocat e il card integrato che mi avete visto usare questo tutta sta roba qui è in abbonamento anno costerebbe 249 euro fino al 31 luglio l'offerta è di 195 euro per un anno cioè per un anno avete la licenza di tutta questa parte qui quindi se volete approfittarne qui c'è il bottone acquista che vi manda sulla sull'e-shop e qui fate l'acquisto naturalmente vi ripeto fate fate attenzione che scade poi il 31 luglio per cui insomma direi che avrei terminato non so se c'erano domande Sergio Corrado Risieri il mio amico Risieri qui dice riuscite a mettere anche il manuale operativo delle stime immobiliari edito dall'agenzia del territorio nel 2011 che non si trova guarda Risieri non so se tu sei telepatico perché noi sulle stime immobiliari stiamo stiamo proprio qui su top geometry stiamo automatizzando la ricerca cioè la ricerca che puoi fare dei comparabili che se uno è smanettatore la può fare già sul sito dell'agenzia noi la stiamo automatizzando e la metteremo come servizio aggiuntivo qua su top geometry quindi su questo vedrai che bella cosa faremo Gabriele dice che fine ha fatto altro amico grande che fine ha fatto il sito mappe di impriamo quello ha fatto una fine misera perché non sono più riuscito a avere le mappe dei collegi però lo sto riprendendo il discorso per cui se riesco a farmi dare le mappe dei vari collegi ma ne ho già una quindicina di collegi le metteremo anche queste qua su top geometry Gianni spiega questo Zuccapione Zuccapione sarebbe un discorso che servirebbe anzi lì faremo faremo un corso di un mio caso che poi è questo che vedete qui su questo articolo adesso sto aspettando che finisca la causa perché questo era appunto un caso per cui questo proprietario qui vorrebbe mangiarli via un bel pezzo di proprietà al proprietario A per Zuccapione quando in realtà è tutta una balla totale quindi qui e lì sarebbe la paralisia di questo articolo perché veramente vi rendete conto di com'è la normativa su Zuccapione adesso qui sto sistemando anche gli articoli sto inserendo degli altri insomma è un po' adesso in fase di aggiornamento del sito ma Sergio c'erano domande tipo tecnico o quelle le abbiamo diciamo che abbiamo risposto a tutto che erano più domande diciamo ognuno aveva la sua problematica erano problematiche che non di interesse di tutti ecco forse l'unica domanda che ricordo che poteva essere interessante era un collega chiedeva che aveva visto la spiegazione sul Geocat chiedeva poi come se si può importare quei dati sul suo controller beh ovviamente l'esportazione cioè se importa probabilmente riesce anche poi a fare le esportazioni nel formato in cui importi lì sì diciamo che vedi c'è questo bottone esporta sul strumento che però chiaramente uno mi deve dare il formato del file che accetta il suo strumento capito certo infatti lì ci sono migliaia di strumenti anche se poi i controller di oggi in teoria diciamo che il file ASCII lo importano tutti quindi se riesce a creare il file è l'unico problema che non sempre riesce a crearlo compatibile ecco quella è un po' la situazione perché qui l'import chiaramente qui vedete noi abbiamo una serie di marche e modelli di import per cui qua l'import viene fatto dai vari formati sia GPS che stazione totale per cui uno qua sceglie il suo formato e poi qui va qua e importa il file di quel formato lì adesso qui non so se lo trovo ma insomma e quindi qui l'import è sicuramente garantito ecco l'export avviene la stessa roba perché poi vediamo se riesco a importare sto rilievo qua forse qua dentro qui ho vari esempi ne ho veramente tanti per cui qua ogni volta cercarli fuori vediamo questo era l'RV5 eccolo qua vediamo se trovo qualche esempio da importare esempi proviamo questo qui qui mi dice anche la stazione dove voglio metterla sulla 100 questo era un IOGPS quindi qui si importa gli IOGPS quindi l'import è ormai qui tutte le maggiori marche e modelli e li ho un po' tutti poi anche quelli obsoleti quelli stravecchi per cui se uno ha ancora uno di questi qua i vecchi Zeiss Vild eccetera può anche dirmelo lo rimetto lo rimetto tra quelli attuali soprattutto ecco diciamo chi acquista il programma e che ha uno strumento che non è compreso in questa lista io li sviluppo gratuitamente l'import anche del suo e anche l'export ovviamente l'export ovviamente qui bisogna che uno mi dia il formato del file su cui esportare i dati in sostanza ecco qui mi pare di capire che ci salutano e quindi non so non c'è altro no Sergio Corrado a dirsi no direi di no direi bene allora vedo che c'è qualcuno che parla già di vino Gianni che sia il tuo amico Gabriele il nostro amico Gabriele parla di vino spagnolo l'ho capito perché noi qua in Italia abbiamo i vini migliori di tutti e lui ha in mente quello spagnolo no ma perché io so perché perché ha in mente di andarsi in Spagna ah ecco allora Sergio ha in mente di andarsi in Spagna e ha paura di trovare vino meno buono di quello che bene fa quello è facile quello è sicuro non facile è sicurissimo va bene dai allora se non c'erano altre domande ma poi naturalmente guardate se se avete domande adesso io qui purtroppo ho chiuso da 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 Mona si direbbe qua in Veneto ho chiuso la pagina del sito Corsi per cui lì adesso viene fuori la l'ingresso però se ci andate stasera trovate il mio indirizzo e-mail e il mio numero di telefono cellulare per cui chiamatemi tranquillamente quando volete per qualsiasi cosa io sono qua vi ribadisco il concetto che se volete avere i crediti dovete poi stasera troverete il bottone video invece che webinar troverete il bottone file con tutto il materiale non solo con le slide anche con i file Excel con i file dvg che vi dicevo e troverete soprattutto il bottone test per fare il test non aspettatevi che ci sia alle 6 o le 6 e mezza ci sarà verso le 11 di sera perché ci vogliono dei tempi tecnici per andare a caricare il tutto io a questo punto chiamatelo pure anche da mezzanotte alle 5 del mattino che risponde forse meglio sì sono più concentrato di notte io come sai Corrado mentre la mattina faccio un po' più fatica però ho quei bioritmi là allora io vi ringrazio tutti vi auguro una buona serata e lascio i saluti a Sergio e Corrado un saluto a tutti i colleghi saluto anche te Gianni e Corrado alla prossima grazie e buona serata a tutti ciao Sergio